va bene vai 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 dunque anche stamattina c'è stata una sessione molto interessante molto partecipata e e quindi siamo molto soddisfatti di come sta andando il convegno anche perché appunto il fatto che già dal secondo giorno c'è stata ancora una presenza ampiamente superiore alle ai 200 partecipanti con punte fino a 280 è sicuramente un motivo di soddisfazione per tutti noi e devo dire che uno dei delle novità del convegno è quello di affiancare a studiosi di fama internazionale oggi abbiamo anche tra gli altri dall'estero il professor terriado di affiancare appunto da studiosi già notti giovani studiosi molto bravi questa mattina abbiamo avuto la professoressa valentina certo e il primo intervento del pomeriggio sarà quello di un'altra giovane validissima studiosa la dottoressa gianfranceschi devo dire abbiamo già detto stamattina ma per chi si collega qui per la prima volta che purtroppo il professor strinati ha avuto un improrogabile impedimento che noi ha consentito di partecipare alla sessione odierna sia a quella mattutina che a quella pomeridiana quindi eventualmente avremo anche più tempo per il dibattito ripeto quanto ho detto stamattina cioè che gli studenti universitari ovviamente non solo della sabienza anche dell'accademia delle arti di rome delle altre università hanno la possibilità di inviare entro domani una sintesi un resoconto di questa giornata di studi e quelle diciamo valide saranno pubblicate sul sito www garavaggio punto info e poi sceglieremo la migliore o le due migliori che pubblicheremo su about art grazie appunto alla collaborazione ormai consolidata con questa importante rivista online eh detto questo e prima di iniziare i lavori veri e propri do la parola alla dottoressa Waldner per alcune importanti comunicazioni eh prego dottoressa grazie mille grazie per la parola ehm praticamente due proprio due parole scusi un attimo volevo fare la condivisione dello schermo eccoci ehm per quanto concerne proprio il la gli strumenti che sono stati dati a disposizione del del convegno e del e che aspetti ecco come al solito quando si vuole partire non c'è scusate eccoci allora ehm questo era per dire il le attività che sono state svolte e per dare un attimo eh di dare un'occhiata a quelle che sono gli strumenti a disposizione le attività che sono state svolte dal da Ion Art ehm sono innanzitutto eh siamo riusciti ad avere il patrocinio del Consulato Generale d'Italia che in questa occasione gradiremo appunto ringraziare per la fiducia concorda accordataci per il per il convegno e in particolare dal il al ministro plenipotenziario il Consolo Generale d'Italia in Lugano il ehm dottor Gabriele Meucci e la sua assistente ehm Rosetta Rosetta Basilicata e anche il precedente console aveva già dato il suo benestare per il patrocinio. Inoltre alla confraternita di San Carlo Borromeo in Lugano ehm in particolare al priore eh Guido Bauman. La comunicazione che ci è stata affidata eh innanzitutto ha avuto come primo ehm come primo strumento il il manifesto che è stato fatto appunto ehm elencando tutti i partecipanti in maniera tale da avere la visibilità eh di tutti i che hanno di tutti quelli che hanno collaborato appunto al al convegno stesso. Il la possibilità ehm qui c'è appunto con i patricinanti e il l'indicazione del sito. È stato fatto un una mailing list chiaramente il coordinamento delle attività proprio di comunicazione e in particolare è stato costituito il sito caravaggio.info per raggruppare tutte queste eh collaborazioni. E due volevo proprio entrare un attimo nel merito per vedere perché molti non sanno neanche eh come è strutturato e per dare la possibilità a tutti i partecipanti di eh trovare le informazioni eh più importanti o che potrebbero essere utili e viene anche chiesto se qualcuno ha qualche eh suggerimento anche di come implementarlo o se eh innanzitutto c'è la home page dove si vedono appunto tutti i relatori, si vedono le sessioni di dove ci si può iscrivere eh per ogni giornata eh ci sono due sessioni e per ogni sessione chiaramente un link. Se uno eh volesse appunto iscriversi alla giornata qui eh rimanda direttamente alla sessione con i relativi ehm temi trattati e relatori e ci si può iscrivere direttamente a allo Zoom. Nella parte poi finale viene indicato qui il comunicato stampa e la il video di presentazione che è stato fatto il quindici di ottobre del duemila e ventuno, il comitato che 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 appunto costituisce il comitato d'onore, il comitato scientifico, il coordinamento scientifico, comunicazione e chiaramente l'ideatore con i i patrocini. I numeri qua è indicato appunto quaranta relatori in sei giornate perché è stata considerata anche la la giornata di presentazione e le collaborazioni. Nelle successive parti troverai troverete nella parte info eh quella che ha implementato Beryllium che è quella quale appunto che abbiamo porta ha portato come come ehm collaboratori professionisti del settore proprio ehm che hanno implementato questa pagina che dovrebbe essere una pagina di appoggio per tutto il materiale on demand. Quindi se qualcuno dei relatori ehm volesse implementare la la l'esposizione con del materiale di supporto che sia biografico o quant'altro lo possiamo poi aggiungere qui. Adesso come adesso eh c'è la possibilità di scaricare il programma come c'è anche in altre sezioni. La possibilità per gli studenti di trovare gli abstract in formato PDF quindi da qui possono tranquillamente eh scaricarlo. Il la possibilità di vedere il regolamento dei crediti che adesso abbiamo soltanto per quanto concerne la sapienza di Roma perché gli altri non ci sono pervenuti se le qualcuno delle università fossero in ehm vedessero questo possono comunque implementarlo sempre in mandarlo a info chiocciolacaravaggio.info. Qui c'è la parte inerente alla sessione del programma che viene sempre ehm aggiornato da Beryllium cioè praticamente arrivando qui si può ehm iscriversi alla sessione corrente. Qui ehm è il materiale di su di che è stato già eh implementato che sono appunto il la presentazione e le sessioni precedenti registrate che coloro che non hanno avuto l'occasione di essere presenti possono tranquillamente vederle in questa sessione qua. Ehm nella in questa parte qui c'è poi ehm ancora oltre la parte iscrizione che in parte abbiamo già visto che sono appunto le varie sessioni con le iscrizioni c'è la parte inerente ai relatori agli speaker che sono messi in ordine eh alfabetico ogni eh speaker ha una sua pagina vale a dire se ehm cliccando sul relativo nome ehm vi è il nominativo del dello speaker e del relatore appunto con il curriculum vitae il tema trattato quando parla e l'abstract di riferimento. Anche qui potremmo aggiungere appunto bibliografia o o link di riferimento se eh avessero piacere i relatori. Per quanto concerne invece la parte delle news abbiamo la rassegna stampa che abbiamo oltre quaranta testate fino adesso che parlano del convegno. Non abbiamo messo i doppioni cioè non abbiamo messo le parti di quelli che citano già ehm non so se citano per esempio Vatican News non li abbiamo messi. Questi sono proprio solo quelli che si sono ehm che eh hanno hanno trattato proprio il convegno. All'interno della della parte della rassegna stampa si trova un anteprima con la possibilità all'interno di poter per esempio in questo caso qui c'è l'intervista di Barbara Iata si può praticamente ehm entrare e sentire direttamente anche l'intervento l'intervento fatto. Per quanto concerne invece la sezione libri c'è la possibilità per suggerimenti appunto editoriale qui abbiamo fatto una sezione di libri eh suggeriti specialmente quelli che sono in procinto sono ancora inediti stanno per uscire in questo caso qui vediamo per esempio il libro di Bertreffers che sono 650 pagine editi dalla da 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 editori Paparo Paparo e anche del professor eh Rossi e qui si vede l'anteprima con le con il la scheda descrittiva. Chi avesse appunto qualcosa da suggerire o da aggiungere sempre a info chiocciolacaravaggio.info. Eh c'è qua c'è la newsletter dove i partecipanti possono iscriversi per avere aggiornamenti sul convegno, i contatti e le domande ehm perché si sono ripetute spesso le stesse domande abbiamo fatto una una pagina per domande come ci si fa iscrivere le sessioni di ordine tecnico o quant'altro basta andare sul sul tema e si ha la risposta direttamente sul ehm ritorno brevemente alla descrizione questo è per quanto riguarda proprio il sito web. Per quanto concerne le collaborazioni abbiamo apportato la collaborazione con Birillium e ringraziamo il CFO Claudio Lotufo e i collaboratori che avete naturalmente anche potuto conoscere che in particolare appunto Giorgia eh Maggini che praticamente eh se vuole anche intervenire nel nella nella può tranquillamente farlo eh e poi naturalmente anche mh Benedetta che abbiamo abbiamo come eh come si dice come regola per quanto riguarda quel produttore audiovisivo che praticamente si occupa di tutta la parte squisitamente eh tecnica appunto e e poi appunto c'è Fabrizio Broccoletti che invece è il nostro referente per quanto riguarda l'ufficio stampa e mh poi ritorneremo appena entriamo nella slide di Berillium vero e proprio. Allora ritorniamo qua questa è la parte che riguarda proprio Berillium e le sue attività specificatamente per questo convegno ehm si sono occupati appunto della parte ufficio stampa tramite Fabrizio appunto Broccoletti con delle mailing list eh dedicate con del delle dei contatti eh e delle ehm come si vede anche qui dei contatti direttamente con le varie testate organizzazioni con i giornalisti interviste e quant'altro eh è stata creata quella pagina web di cui abbiamo visto con demanda e di cui vi chiediamo anche la possibilità appunto suggerimenti o quant'altro materiale quello che potrebbe essere implementato ulteriormente la regia di sopporto appunto affidata alla nostra Benedetta appunto come riferimento e e poi c'è l'accordamento chiaramente di tutte queste di queste attività ehm che riguardano il l'attività nel per quanto riguarda gli sponsor eh i tempi erano un po' stretti diciamo che i principali sponsor sono tutti coloro che stanno collaborando adesso al al convegno e eh per quanto e che lo fanno appunto per lo più diciamo appunto lo fanno pro bono e quindi perché credono effettivamente e e ci riunisce come comune denominatore proprio il piacere della condivisione e della di credere in questa meravigliosa meravigliosa ehm idea di ehm di 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 costalazione come si è creata e di questo convegno appunto dell'enigma di Caravaggio per il quale ringraziamo appunto ehm Sergio Rossi e forse ancora da menzionare anche About Art che nella per quanto riguarda la segna stampa ha raccolto proprio quasi aggiornando quasi quotidianamente sia le interviste che quanto quanto viene effettivamente fatto quindi nella figura di Pietro di Loreto che effettivamente ha dato una una bella eh mano eh restituisco la la parola vi ringrazio dell'attenzione benissimo quindi a questo punto posso dare direttamente la parola alla dottoressa Michela Gianfranceschi che eh eh è attualmente si è laureata di poi è anche poi perfezionata alla sapienza e attualmente è assistente del reparto per l'arte dei secoli diciassettesimo e diciottesimo dei musei vaticani collabora con la eh dottoressa Alessandra Rodolfo che parlerà eh subito dopo quindi do la parola alla dottoressa Gianfranceschi che parlerà di alcuni aspetti della diffusione del caravaggismo attraverso le stampe del seicento prego. Grazie mille e ringrazio anzitutto il professor Sergio Rossi ringrazio il professor Papa per la bellissima occasione che ci stanno offrendo. Vado a condividere. Allora. Lo vedete è partita la presentazione? No professoressa ancora no, non sto ancora condividendo. Scusate. Adesso? Perfetto adesso funziona grazie mille. Grazie a voi. Dunque questo intervento vuole osservare attraverso significativi esempi la diffusione del caravaggismo da un punto di vista solitamente poco utilizzato come quello della stampa di riproduzione. Stampe che derivano perciò non tanto dal corpus di caravaggio stesso che tarderà paradossalmente ad essere tradotto se non come vedremo per alcuni sporadici esempi nei primi del seicento ehm quanto stampe che riproducono le opere di alcuni caravaggischi. Il panorama degli studi sull'incisione legata al caravaggismo è ancora poco ampio. Oltre a pubblicazioni imprescindibili che vorrei citare velocemente come le catalogazioni di Nicholson apparse nel settantanove poi aggiornate ampliate nel novanta eh riguardanti l'intero sistema caravaggesco. Sono fondamentali in questo contesto le riflessioni di Evelina Borea su Merisi l'incisione e sulla traduzione relativa ai seguaci del Lombardo. Qui si aggiungono gli approfondimenti pionieristici di Giovanna Sapori del duemilasei eh poi pubblicati però solo nel duemilanove e poi gli studi puntuali di Stefania Macioce che tra il duemilanove e il duemilanundici ha individuato differenti punti di snodo fondamentali sulla questione. Ricordo inoltre tra le varie ehm più recenti aggiunte gli studi di Bregion de la Vernier che ha trattato il caso di Valentin della stampa e soprattutto ha riportato in luce nel duemilaquattordici una raccolta di stampe secentesche curata dal collezionista erudito del seicento Michel de Marolle eh in cui emergono numerose le riproduzioni da pittori caravaggeschi su cui tornerò velocemente più avanti. Per quanto mi riguarda fin dagli anni del mio dottorato ho approfondito nei miei vari scritti alcuni punti concentrandomi spesso ultimamente sui contrasti culturali ehm a mio avviso particolarmente interessanti tra incisori sette ottocenteschi e il portato stilistico e concettuale delle opere originali. Oggi mi interessava invece offrire qualche spunto sulle prime trascrizioni a stampa di quell'universo caravaggesco complesso e multiforme, le prime traduzioni a stampa cioè che in qualche modo segneranno il passo di tutte quelle seguenti. Un momento cruciale dunque da cui deriverà tutta la storia della trascrizione a stampa di quel determinato linguaggio pittorico così particolare. La storia della traduzione a stampa delle opere di Merisi e di quelle dei suoi seguaci la si può indagare a mio avviso in parallelo attraverso due filoni principali. Quello della ricerca tecnica e stilistica in continua evoluzione nella tensione continua verso un'efficace resa del chiaroscuro e invece il filone è incentrato sulla diffusione di specifici soggetti, facilmente assegnabile a un certo ambito artistico, che divennero sempre più caratterizzanti, se così si può dire, di quella temporia culturale. Fin dall'inizio del Seicento fu evidente come la pittura di Caravaggio, carica di ombre possenti, tagli di luce, non si prestasse a una facile trascrizione in bianco e nero. Spesso gli incisori di formazione tardo-cinquecentesca continuavano infatti a preferire le composizioni più chiare, illuminate diffusamente dai contorni chiari e definiti. Sensibili al rinnovamento incipiente del linguaggio pictorico, però alcuni artisti nei primi decenni del secolo iniziarono a sperimentare nuovi modi per rendere attraverso l'incisione il chiaroscuro di alcune composizioni. Nel corso del primo decennio del secolo, le stampe derivate dalle opere di Elzheimer offrono un piccolo catalogo di invenzioni che si inserisce a mio avviso naturalmente tra i prodromi delle stampe d'ambito caravaggesco, per le iconografie ovviamente, alcune direttamente dipendenti dal corpus merisiano, e per le soluzioni tecniche nella resa delle ombre e delle luci. Possiamo vedere qui l'olandese Hendrik Goet che nel 1610 incide una salomè che riceve la testa del Battista fortemente chiaroscurata, dipendente da un quazzo conservato a Chatsworth di Elzheimer. Le creazioni raffinatissime arbite di Jacques Allot, quindi una stampa ispirata a un dipinto di Jean Leclerc che è concettualmente molto vicina a varie opere di Georges de la Tour, con sovrapposizione di tema di genere e vicende del figlio il prodigo, che era insomma proprio del catalogo, e contemporaneamente le prove del senese Bernardino Capitelli, nel corso degli anni venti, derivato da opere di Manet. Dimostrarono le molteplici espressioni che la stampa di riporto, in competizione serrata con le nuove soluzioni pittoriche legate al naturalismo, andava scoprendo ed esercitando. L'attività del pentregraver Claude Vignon, nell'atterranza tra le differenti tecniche artistiche, testimonia un sistematico studio dei modi caravaggeschi, aggiungendosi a queste mirabili prove. Interessantissime a questo proposito le figure dei pentregraver caravaggeschi appunto. Tra loro furono fondamentali, ma non mi posso dilungare ovviamente sull'argomento, fondamentali dicevo circa il processo di sviluppo in questi anni della traduzione a stampa, figure come Orazio Borgiani, Jean Leclerc, Ribera, Claude Vignon già citato, attraverso che attraverso differenti tecniche e usi dell'incisione offrirono esempi cruciali agli incisori che seguirono. Sono studiosi, sono sperimentatori, mescolano le varie tecniche anche se sembrano prediligere l'acqua forte in generale da pittori quali sono, più duttile nella resa di un segno libero e carico e chiaroscurato. Nel 1608, vediamo qui, Claude Vignon, incide da Simon Vuel la nota stampa dei due amanti e ci lascia così una testimonianza visiva dello studio legato all'opera di un altro caravaggesco. Il dipinto viene trascritto, scusate, con perizia da una mano in grado di comprenderne a fondo le istanze modernissime. Ed ecco che il tratto inciso diviene pittorico e l'uso dell'acqua forte si piega alla resa seppur immaginifica dei valori tonali. Lo studio dei modi artistici da parte del francese è in continuo fermento e lo dimostrano nella sua produzione, nei dipinti, cioè nelle incisioni e anche nei disegni, le aderenze ai vari artisti suoi contemporanei e quelli ospiravano. Allo stesso modo lo studio con cui si applicano Borgianni e anche Ribera, che citavo, nell'eccelsa capacità di combinare le varie tecniche, acqua forte, punta secca, bulino anche, fu d'esempio agli artisti incisori nella resa di dipinti complessi e carichi di contrasti di luce e ombre. Nel corso del secondo decennio Jean Leclerc realizzò varie composizioni dipinte sul tema del concerto notturno, poi riprodotte a stampa con ogni probabilità da lui stesso, in cui inserisce tutti i segni distintivi di quella incipiente cultura di genere all'interno di un'atmosfera tenebrosa. Costoro, insomma, furono perciò i precursori, a mio avviso, di un certo tipo di incisione, coloro che aprirono in effetti la strada ad una maniera incisoria all'inizio, nella prima metà del XVII secolo. Concentrandoci ora sulla stampa propriamente di traduzione legata al caravaggismo, mi ha ricordato che, oltre a questi esempi concreti, si tramandò una sorta di principio regolatore di quello che fu il naturalismo elaborato da Merisi, nella definizione data dall'archiatra Giulio Mancini nelle sue considerazioni, quando scrive a proposito del lumeggiar con lume unito che venghi dall'alto senza riflessi, lui parlava di Caravaggio, ma si applica poi anche nelle opere dei guaci, delle parieti colorite di negro, principio poi ripreso negli scritti di Sandra e di Bellori, fu certamente colto nei secoli successivi anche dalle generazioni di incisori intenzionati a tradurre opere merisiane. Queste sono stampe più tarde, non secentesche, che però dimostrano come proseguì la cultura visiva di questa sorta di tenebrismo associato spontaneamente alla pittura di Merisi. Come vedremo, i primi a mostrare invece all'inizio del secente interesse per la trascrizione della pittura caravaggesca, oltre ai caravaggeschi stessi, furono giovani incisori di origine e formazione prevalentemente nord-europee. Intorno al 1610, anno cruciale, Nicolaes Lassman e Dirk Pambaburen realizzarono alcune prove grafiche che costituiscono tra i primi esempi noti di trascrizioni legate, secondo vie differenti ovviamente fra loro, all'universo figurativo caravaggesco. Lassman colse il carattere caravaggesco del dipinto di Guidoreni con la profissione di San Pietro per San Paolo alle Tre Fontane e lo incise mostrando al contempo una profonda comprensione della formale purezza reniana. Ma la rivoluzione del linguaggio grafico è in una pittorica incisione in controparte della deposizione di Santa Maria in Vallicella, tradizionalmente riferita all'inizio del secondo decennio. L'attribuzione all'olandese Baburen, avanzata da Alfred Moir circa 40 anni fa, lascia supporre che l'autore della stampa abbia potuto vedere di persona l'opera, e ciò la rende particolarmente suggestiva, evento che fisserebbe la datazione del rame almeno alla metà del decennio, ossia all'arrivo a Roma del pittore, e a differenza di alcuni incisori nord-europei, il fatto di averla vista direttamente, che eseguivano stampe di traduzione sulla base di copie, disegni, a volte addirittura altre stampe, producendo in questo modo una trasmissione spesso inconsapevolmente variata di alcuni dati formali. In secondo luogo, le particolarità di questa prova grafica assumerebbero fondamentale e rilevanza dal punto di vista tecnico, se fosse stato Baburen a inciderla, come però io credo. La definizione delle linee e l'uso del chiaroscuro diverrebbero qui espressioni concrete della comprensione del fenomeno caravaggisco da parte di un incisore e pittore che in quel momento storico seguiva da presso le tracce lasciate a Roma dal Lombardo. Baburen, in quegli anni, rielaborava il medesimo soggetto in una pala per la Cappella della Pietà in San Pietro in Montorio. Il dipinto testimonia un attento studio dunque della tela vallicelliana e sembra verosimile che un primo decisivo momento di analisi della maniera del Lombardo da parte di Baburen possa essere riferito proprio al complesso lavoro di traduzione a stampa del dipinto vittrice. Della comunanza stretta tra linguaggio pittorico e grafico in quegli anni ci rimane un'altra prova, cioè quest'acqua forte eseguita in controparte, tradizionalmente assegnata al giovane olandese e tratta proprio dalla pala in San Pietro in Montorio che vediamo qui accanto. In accordo con quasi tutta la critica pregressa sono riconoscibili alcune caratteristiche tipiche della mano di Baburen, le linee di contorno, le ombreggiature, la definizione somatica dei volti anche, e non ultima la particolare resa dei corpi massicci aggettanti in primo piano. Infine l'incisione condotta ad acqua forte evidenzia un'attitudine pittorica nel tratto veloce e rintracciabile in alcune zone, nel fondo scuro e nelle linee curve dei volti e delle vesti. Non c'è tuttavia ad oggi una prova concreta a sostegno dell'autografia di Baburen, che rimane perciò per ora in chiave ipotetica. Anche il confronto tra i due esemplari attribuiti a Baburen mostra nell'uso comune dell'acqua forte elementi formali simili che mostrano a loro volta l'assimilazione del nuovo linguaggio pur all'interno di una certa indipendenza stilistica. Questi elementi lasciano supporre una visione vicina all'interpretazione figurativa caravaggesca e magari proprio la mano di un pittore, visto il modo di utilizzare il segno grafico con l'acqua forte, consentendo di citare l'ambito di Baburen, se non il pittore stesso, per queste eccezionali prove grafiche. Fino a evidenze più certe, ovviamente. Questa prova, tratta dalla deposizione di Mariesi che abbiamo visto, risulterebbe essere molto precoce, anche rispetto al piccolo novero di stampe realizzate da Lucas Fostermann a distanza, perché non venne in Italia, da, vediamo, la Madonna del Rosario e la Madonna dei Pillegrini, da Pierre Fatour, che invece lavorava a Roma, tutti i felibili agli anni venti. Le incisioni derivate da opere di pittori caravaggeschi si diffondono a partire dalla metà del secondo decennio del XVII secolo, esprimendo la cultura artistica e religiosa del tempo, e qui ne cito solo alcune utili al nostro discorso. Tra le prime si ricordano quelle originate da alcune palle di Carol Saraceni. Le versioni in bianco e nero, per citarne alcune, della predica di San Raimondo, del riposo durante la fuga in Egitto, del San Benno e il celeberrimo transito della Vergine hanno inoltre la caratteristica di essere quasi contemporanei agli originali pittorici da cui derivano. Questo aspetto lascia intuire l'urgenza di far circolare, attraverso il mezzo incisorio, le novità esposte sugli altari romani. L'incisione di Groeter, datata 1614, che traduce la tela del San Raimondo già nella chiesa di Sant'Adriano in Campopaccino, presenta una lunga iscrizione in cui si descrivono i momenti salienti della vita del santo. La palla d'altare veniva così spiegata nel dettaglio, oltre che diffusa a largo raggio. La possibilità di inserire un testo nelle stampe è un rafforzativo dei messaggi principali e in alcuni casi, come vedremo, anche una finestra differente aperta su temi più sotterranei. Ad esempio, quando il tema profano, come vedremo, diventa sacro, nelle stampe l'esplicazione di determinati concetti viene aiutata proprio dalle iscrizioni. Nonostante l'espressione di una ricerca formale volta alla resa degli oscuri in stampa, come abbiamo visto, l'incisore Leclerc offre una versione del transito della Vergine di Saraciani profondamente pulita ed equilibrata nel segno e nell'illuminazione. Lo studio che ho condotto qualche anno fa sull'iscrizione posta alla base dell'immagine ha permesso di stabilire un collegamento significativo della scena trascritta con la pratica liturgica del tempo. Nella citazione in basso di un brano del capitolo 24 del Siracide, che implica l'identificazione di Maria con la sapienza, si legge infatti la chiave interpretativa antiluterana e rimando alle celebrazioni dell'assunzione per una stampa che viaggiò in tutta Europa. In questo caso l'incisione di riporto salda un profondo legame tra il pubblico dei fedeli e l'elemento cultuale e l'immagine sacra. Accanto ai soggetti religiosi, a distanza di un paio di decenni, troviamo però un altro gruppo di stampe tratte da opere caravaggesche di soggetto popolare quotidiano, che circolò continuando a riprodurre i dipinti originali fino poi all'ottocento inoltrato. Queste stampe si vanno a inserire nella complessa evoluzione della scena detta di genere, molto presente in Europa a partire già dal cinquecento. E in questo senso è stato fondamentale il riconoscimento da parte della critica di una matrice comico-moralistica del genere tra diciassettesimo e diciottesimo secolo, che ci ricorda come attraverso espressioni codificate popolari traslasse il messaggio educativo sia protestante sia cattolico. Nella prima metà del seicento a Roma anche la scena di genere nata in ambito caravaggesco è già forte di un portato simbolico e allegorico che si trasmitte poi nelle stampe del tempo, derivate da artisti quali, cito qualcuno, Bartolomeo Manfredi che vediamo, Valentin de Bologna, Vanontorst, Nicola Latour, e difficilmente potrebbe essere assimilata ad una documentazione cronachistica dei bassifondi romani. Al contrario, tale invenzione sembrano essere elaborazioni colte, simboliche e molto teatrali. Se le stampe delle due versioni della Buonaventura di Merisi appariranno solo nel settecento, è ricordata dagli studi, tra le prime espressioni a stampa di soggetti di genere, una carta anonima assegnata a Caravaggio nei cataloghi di inizio novecento e ritenuta da Zeri già mano di Vignon collegata a un dipinto in galleria pallavicini di provenienza colonna. Una buona ventura con iscrizione, moraleggiante, che riconduce all'ambito del Cavaliar d'Arpino, databile a partire dal millesecento. La declinazione edificante del linguaggio visivo popolare, connessa al clima di riforma cattolica, soprattutto in Italia e in Francia, è chiarita dall'analisi delle singole stampe tratte da alcuni dipinti caravaggeschi di genere ed è confermata dalla lettura delle iscrizioni che le accompagnano. Questa pratica di affidare alle stampe popolari messaggi moraleggianti è rintracciabile soprattutto, come vediamo, nella cultura figurativa nordica, cui affidiscono i primi incisori che sperimentarono le novità del naturalismo pittorico. Nel 1623-24 circa Crispin de Pass, il vecchio, realizzava un'incisione parziale dai giocatori di Beckhamon, dipinto da Baburen, nel senso il quadro è più grande, questo è uno stralcio dalla iconografia. La stampa faceva parte di una serie eseguita dall'incisore sul tema dei temperamenti, descrivendo quello con l'erico qui nel particolare. L'iscrizione esorta il riguardante a tenersi lontano da ciò che può causare l'ira e quindi le carte, il vino. Monito moralistico, anche nella scena di genere romana, passa attraverso vari motivi tipici. Il gioco d'azzardo, il vino, la zingara o indovina, la donna o la cortigiana. Da questi topoi si dipartono i rimandi più comuni ai più comuni vizi dell'uomo, come la gora, l'ira, la lussuria. Ricorre inoltre il tema dell'inganno, che sovente lega in una stessa composizione la buona avventura e il gioco d'azzardo. Osserviamo la stampa sciolta derivata dal dipinto di Valentin de Bologna, la buona avventura conservata a Toledo, realizzata da Jean Gagnier, la stampa. In quattro quartine, a rima incrociata, l'iscrizione lungo l'immagine inferiore spiega come l'immagine prosaica possa essere considerata un sofisticato ammonimento per l'uomo retto. Dopo diverse avventure, alla fine i guerrieri stanchi, eccetera, eccetera, narra l'iscrizione. Il testo descrive ciò che accade intorno a un tavolo, presumibilmente in una taverna, in cui alcuni soldati si riposano e bevono. Un indovina legge la mano al soldato più giovane, mentre un uomo con il volto coperto dal mantello fruga nelle sue gonne, rubandole un gallo, e viene a sua volta derubato da una zingarella. Come si nota, ognuno dei presenti inganne ed è ingannato, e l'accento è posto proprio sulla metafora del male che produce male, e si ritorce contro chi lo compie. La critica, rivolta all'arte della predizione alle false credenze, ne sottolinea la natura ingannevole, e la futile tendenza a giocare con la sorte, e sembra contenere una confutazione della dottrina di predestinazione delle chiese riformate. Se tutto è già stabilito, è inutile agire per il bene. L'intera scena, non più svago intellettuale, diventa una profonda riflessione sull'esistenza umana. In questo senso, nel XVII secolo, le scrizioni all'interno delle stampe d'ascendenza caravaggesca sembrano proseguire la fiorente scrittura dei trattati e della letteratura moralistica del XVI secolo. Sulla falsa riga di varie stampe cinquecentesche in cui sono raffigurati i giocatori e ubriaconi, nelle bettole intenti a zuffarsi e cose del genere, l'incisione sciolta con la disputa dei giocatori, anch'essa di Gagnère, edita a Parigi nel 40, datata, tratta da un originale perduto di Valentin anch'essa, mostra una rissa da taverna intorno a un tavolo dove si sta giocando al gioco d'azzardo. Questa volta il motto alla base della scena esorta esplicitamente il fedele ad evitare il gioco d'azzardo per non perdere Dio. L'espressione finale parvù indica in questo caso la colpa dei giocatori blasfemi che puntano tutto ciò che possiedono affittandosi alla sorte e non a Dio. Nella totale inazione sottolineata dall'ultimo verso è leggibile una critica alla dottrina luterana della giustificazione per sola fede, secondo cui le opere non garantiscono la salvezza delle anime. La cultura figurativa post-tridentina esigeva il contenuto penitenziale, attraverso le stampe sacre con le vite dei santi si suggerivano i modelli di perfezione da imitare, mentre con le stampe di genere si offriva una riflessione sui vizi dell'uomo moderno e sulla necessaria espiazione in un percorso salvifico vicino al sentire popolare. In questo mondo, intorno dagli esemplificanti sagici, linguaggio ruota intorno a ciò che è materiale, quotidiano, ciò che è risibile e dunque comico. Queste stampe diffondevano in qualche modo quelle pitture ridicole menzionate da Gabriele Paleotti alla fine del XVI secolo come composizioni che offrivano al fedele un mezzo ed aiuto per esercitarsi più virtuosamente. Queste raffigurazioni a stampa derivate dal catalogo dei caravaggeschi viaggiarono attraverso i paesi europei. I soggetti popolari ebbero enorme e facile diffusione, stimolarono in un certo qual senso l'interesse degli incisori traduttori, creando una tipologia che spontaneamente veniva riferita al caravaggismo e spesso a Merisi stesso. È un esempio la raccolta messa insieme dall'abbate Michel de Marol che citavo, portata all'attenzione degli studi da Bregion nel 2014, venduta al re di Francia nel 1667, comprensiva di stampe di soggetto popolare, umile, talvolta ridicolo, strettamente connesse con la cultura visiva caravaggesca. Sono presenti moltissimi artisti, molto vuoi, molti francesi in generale. Tra queste carte troviamo una stampa realizzata da Theodor Matam, databile qui a sinistra, databile per ragioni stilistiche al 26-27, tratta dal dipinto violinista con bicchiere di Ter Bruggen, di cui si conosce una copia ad Amsterdam alla fine degli anni 20. Questi soggetti, realizzati da Ter Bruggen sulla scia delle suggestioni che vide in Italia e sull'esempio dei modelli realizzati in patria da Baburen, da Nontorst, furono incisi fra l'Olanda e l'Inghilterra da artisti che mai si affacciarono in Italia, trovando un florido mercato solo al nord, dove la stampa diveniva rappresentazione della realtà quotidiana. La robusta parlata nordica che emerge da questi esemplari mostrati non è più strettamente accostabile alla cultura di genere d'ambito caravaggesco sviluppatasi a Roma, che invece risulta ancora parzialmente presente in molti dipinti del pittore. In questo senso l'incisione d'Aprè, attraverso la mano di personalità quali Theodor Matam, Salomon Saveri e Ian Verkoglie, di cui porto qualche esempio, costituisce una fonte più vicina alla cultura nordica e tende perciò a filtrare alcuni elementi dagli originali, reinterpretandoli nella chiave della cultura locale. Troveremo successivamente nel Settecento un più ricco flusso di carte di traduzione, che qui ovviamente non tratto, ancora legate alle iconografie di genere, qui alle stampe tratte da artisti quali Manfredi, Valentina, Antorst e Guè, si aggiunsero, tra gli altri, si aggiunsero anche le carte da Caravaggio. In conclusione, possiamo osservare dunque, anche in concomitanza con la fine del momento più genuino caravaggesco negli anni trenta, le stampe di riporto che iniziarono a diffondersi seguendo poi differenti via attraverso l'Europa, comparendo sia nelle raccolte sia in fogli sciolti, modificando forme e contenuti. Il linguaggio e le novità caravaggesche attuatesi nell'urbe in quegli anni si diffusero così attraverso le stampe di traduzione in modo molto differente rispetto alle copie pittoriche dei dipinti, rispetto alla circolazione delle opere nelle collezioni e anche alla diffusione compiuta direttamente dagli artisti stessi, che muovendosi da Roma portavano la propria esperienza in giro per tutta Europa. Le stampe ebbero per propria natura la capacità di diffondersi trasversalmente, circolando velocemente e filtrando tutti gli strati della società. Giunsero a portare il loro messaggio in maniera capillare e molto spesso riuscirono a esplicitare argomenti e sottotesti con l'aiuto delle iscrizioni e talvolta a mutuare, come si è visto, concetti in culture molto differenti. Inoltre, l'espressione di un maggiore o minore interesse per una composizione tocca in modo profondo le corde del gusto di un'epoca, offrendo ottimi spunti di analisi e riflessione a noi tutt'oggi. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Benissimo, mi sentite? Dunque ringrazio la dottoressa per questa bellissima relazione, anche perché è stata perfetta nei tempi e quindi rimandiamo comunque il commento alla fine dell'intera sessione e do subito la parola alla dottoressa Alessandra Rodolfo, che attualmente è curatore del reparto per l'arte dei secoli diciassettesima e diciottesima del reparto razzi e tessuti ai musei vaticani. La dottoressa Rodolfo è stata laureata con me, è stata anche quando era giovane, una mia collaboratrice e quindi oggi devo dire che la sapienza di Roma si è rivelata anche un prezioso vivaio di giovani e validi storici dell'arte e credo che, spero, che continuerà così. Quindi do la parola alla dottoressa Rodolfo, che parlerà di alcune riflessioni e novità sulla maniera grande di Claude Vignon. Prego. Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Mi sentite? Sì, lo sentiamo perfettamente. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il professor Rodolfo Papa e il professor Sergio Rossi, con cui ho condiviso tanti anni universitari per questo invito e per avermi dato anche l'occasione di studiare un quadro che era nelle collezioni vaticane, che è un inedito in realtà del pittore Claude Vignon, un artista che è sempre stato citato tra i seguati francesi di Caravaggio, ma mai particolarmente approfondito, se non dalla Paola Bassani Patch, che nella sua imponente monografia sull'artista, venuta alla luce nel 92, utilizzata anche poi come il catalogo della mostra sull'artista che ha avuto varie sedi in Francia tra il 93 e il 94. Un catalogo critico in cui la studiosa ha ricostruito la bibliografia e la personalità dell'artista, catalogato a opere sia esistenti che perdute, ripercorso tutta la fortuna critica, rintracciando addirittura 555 opere. E al periodo romano la studiosa riporta circa 54 opere, a cui sono da aggiungere un altro gruppo che fluttua tra Roma e Parigi. Malgrado questo, però, approcciando lo studio del pittore, sembrano condivisibili i dubbi su una personalità piuttosto sfuggente a qualsiasi tipo di catalogazione, che fa apparire ancora molto attuale le parole che sul catalogo dei caravaggisti francesi che si tenne a Villa Medici, dove appunto, e qui cito, Vignon allievo del Caravaggio si diceva del 600. È certamente dire troppo, l'analisi del Marietta è più sottile, aveva anche buona capacità di intendere il chiaroscuro che poteva essere frutto del viaggio che aveva fatto in Italia. Il Vignon deve molto evidente al soggiorno o ai soggiorni in Italia, è proprio un caravaggesco fra mezzo ad altre suggestioni, ad altre esperienze, gli capita di esserlo. Il pittore più disinvolto del 600 francese rimane anche il più sconcertante. Uno sconcerto, tra l'altro, a cui talvolta non è esente neanche la Bassani, che rimane sorpresa dai repentini cambiamenti di registro dell'artista, delle molteplici influenze e sfaccettature, che sono caratteristiche che tra l'altro hanno suscitato nel tempo giudizi contraddittori e diversi sull'artista. Longhi lo vedeva un precursore, un equivalente francese di Fetti, preclassico, attratto dall'arte veneta, grande colorista per Weissbach, precursore addirittura di Rembrandt, secondo Charles Sterling, ponte tra l'influenza di Alzheimer, tra il tardo manierismo e il barocco di Poet, un vignano artista indipendente e moderno, impregnato di tutta la cultura dell'epoca, Pertullier, e più recentemente, secondo la Bassani, che lo ha messo a fuoco in particolare, è un artista che portò nella pittura parigina una singolare sintesi di tendenze nordiche italiane, particolarmente veneziane e romane. Questo in sintesi per raccontare un artista capace di produrre reazioni multiformi e inafferrabili, così come inafferrabili specialmente per il primo periodo, sono i dati biografici riportati con toni spesso aneddotici da Guilleux de Saint-Georges, che è l'autore di alcune memorie storiche sulle opere di Vignon, che è la fonte principale per conoscere l'artista e che ci racconta dei suoi due matrimoni, della sua numerosa parola, e pare che parla addirittura di 34 figli avuti con le due mogli, in realtà forse solo 24, dagli atti di battesimo, dei suoi spostamenti, delle sue avventure e disavventure. Senza dimenticare come Vignon non fu solo un artista, ma anche un abile mercante, tra i più conosciuti dell'epoca, soci in affari prima con il suocero Nicolai Etienne e poi successivamente con Langlois, editore anche di mercante, e Brebiette, esperto conoscitore. Quindi ricorda il Marietta aveva preso, soprattutto in Italia, a giudicare le opere dei pittori e questo studio lo aveva reso esperto nella conoscenza di diversi modi e quando si era in dubbio circa l'ogeneità di un dipinto era quasi sempre lui a cui ci si rivolgeva per decidere. Ora la prima parte della vita di Vignon, che comprende il suo periodo di formazione, il soggiorno a Roma e un viaggio in Spagna, presenta numerose zone d'ombra. Se si accetta infatti poche date non si hanno neanche appigli cronologici. Per il periodo di formazione che dovrebbe essere avvenuto dal 1605 al 1608-9, che si svolge da prima a Tour, dove nasce nel 1593 e poi a Parigi. Abbiamo poche informazioni, non da Lille de Saint-Georges, ma più che altro da altre fronti, che ci indicano come il suo maestro non fu, come creduto da molti, di Georges Lallemande, ma piuttosto Jacob Bunel, un pittore della seconda scuola di Fontainebleau, che si era formato a Roma sul manierismo di Zuccari e Pomarancho e Venezia, uno dei più celebri maestri del regno di Enrico IV. Qui abbiamo un ritratto di Enrico IV in Veste di Marte, che si trova al Castello di Po, e che Vignon ricorda, citando, dicendo che ebbe l'onore di conoscere e definire il più grande pittore che ci fu in Europa, da cui ebbe il privilegio addirittura di ricevere i primi insegnamenti. Un artista di cui però rimane ben poco, sia di documentazione che di opere. Ritornando comunque al soggiorno romano di Vignon, abbiamo qualche notazione anche in parte aneddotica del Villè de Saint-Georges, mentre non ne parlano né il Mancini né il Baglione. Una breve citazione viene fatta dal Richard Simons nei suoi notebook, dove che passando per Parigi vede questo quadro della circoncisione di Vignon e già qua si vede le molteplici influenze dell'artista e si sottolinea, Simons sottolinea la lunga permanenza a Roma del Vignon, dice che visse per lungo tempo nella città. Il pittore in realtà deve essere stato a Roma per circa due anni, tra il 1609 e 10, e poi per un soggiorno più prolungato, per circa cinque anni, dal 1617, rientrando poi definitivamente a Parigi nel 1623. Il Villè de Saint-Georges ci ricorda il suo arrivo a Roma tra il 1609 e 10, che sarebbe giunto al seguito di due monaci che lo portarono con loro nella città eterna, con il pretesto di perfezionare il suo talento, ma in realtà col vero intento di lui nato da famiglia calvinista, di convertirlo. E pare che lo scopo ebbe buon fine, sembra che dopo averlo sufficientemente istruito abbiurò con cuore sincero. Niente sicuro poi degli anni successivi. Le date delle opere romane oscillano tra il 1617 e il 20, è sicura invece la sua presenza a Roma tra il 19 nel 1619 e il 1620, perché è registrato negli stati delle anime della parrocchia di San Lorenzo in Lucina, abita in questa strada vicolo primo della Croce, oggi vicolo delle Orsoline, e la stessa del conterraneo poi Simon Bouet, la cui amicizia probabilmente aiutò il debutto romano del Vignon, che poteva contare ancora su François Langlant, di cui lascia un ritratto, e fu con lui e con Pierre Bebrette, anche l'incisore amico, a Roma nel 17, che il Vignon inizia a esercitare anche l'arte dell'incisione, come abbiamo visto anche dall'intervento precedente, che sarà una parte poi importante della sua produzione. Durante gli anni romani, ma forse anche prima, si colloca un viaggio in Spagna tra il 20 e il 23, anche questo fantasiosamente ricordato dal suo biografo che narra come passando per Barcellona fu attaccato da otto assassini che gli infersero un incredibile colpo di spada, che attraversò la testa arrivando addirittura alla fossetta del collo, e dal quale guarì in tre giorni grazie alle parole di un miracoloso guaritore. Ora, in realtà non si hanno notizie certe sul tuo viaggio in Francia, ma l'ipotesi sembra accettabile per l'influenza che ha avuto poi sulla contemporanea pittura madrilena, sicuramente spiegabile con le incisioni, ma anche con la presenza di opere dell'artista in loco. La Bassani poi ipotizza anche un suo passaggio a Firenze e a Venezia, come dimostrerebbe poi la sua vena coloristica. In questo primo periodo romano viene individuato il momento caravaggesco di Mignon, quella maniera forte assorbita dall'artista in un modo però del tutto personale, in cui insieme alle suggestioni del Merisi confluiscono simoli diversi che gli provengono probabilmente da le diverse esperienze artistiche con cui è venuto in contatto. E a questo momento sono riconducibili, ad esempio, i dipinti raffiguranti da molte serie di eh santi e padri della chiesa, tra cui questa, che è la serie dei padri della chiesa di collezione privata canadese al Oral Fitzwilliam Museum di Cambridge, ehm e sono di orientamento sicuramente caravaggesco per l'isolamento plastico delle figure, per l'utilizzazione di una luce molto violenta e concentrata e e sono state messe in rapporto, in realtà mi sembra giusto, eh sia dalla Bassani che da Gianni Papi con eh Ribera, in particolare con Ribera del periodo romano e se in effetti le figure sedute, il taglio di due terzi della figura in verticale rimanda a un tipo iconografico utilizzato dal da Ribera, il tono però mi sembra più severo, meno severo, movimentato da colori più vivaci, da un tocco del pennello che delinea velocemente eh le pieghe delle vesti, costruisce con segno rapido i disegni delle stoffe, il dorato bagliore dei filati. È legato a questo periodo caravaggesco e riberesco, è legata alla tela con i quattro padri della chiesa eh della collezione della Banca d'Italia, una delle opere poche opere di Vignon a Roma eh insieme anche al eh San Paolo della Galleria Sabauda e un altro San Paolo eh che si trova al Fagart Museum. Questi due quadri eh la Bassani è incerta se identificarli con i quadri, con il quadro del San Paolo di Vignon che si trovava in collezione del cardinale Francesco Maria del Monte, sono più propenze a credere che sia questo secondo per l'identità di misure. Fin da queste prime probabilità più prove si capisce eh la molteplicità di suggestioni che compaiono nell'universo vignonesco che non sembra mai essere totalmente caravaggesco. Anzi la prima opera datata sfaterebbe un po' questo mito eh si tratta del martirio di San Matteo datato mille e seicentodiciassette del Museo di Arrà e qua eh direi che si dimostra come la lezione merisiana della Cappella Contarelli della chiesa poi nazionale francese si intuisce con evidenza ma pare completamente stravolta come ben detto dalla Bassani e Vignon qui eh sfida e rifiuta il modello del Merisi. Ne utilizza alcuni stilemi, piedi nudi del santo, ne riprende il chiaroscuro, il gioco di luce ma diciamo che lo riempie di colore, reinverta completamente forme e colori, carica l'immagine di una suggestione del tutto nuova eh superato il naturalismo dei padri della chiesa qua produce un dipinto dirai quasi ansiogeno, soffocante che si rifà alla grande lezione del colorismo veneto e dei suoi interpreti più moderni. Gli anni romani sono gli anni in cui l'artista sembra cercare un po' una strada accogliendo proposte che vanno dall'universo caravaggesco eh forse più di genere che effettivo come ad esempio come le due bevitori, come nel Davide con la testa di Golia che si trova in Texas, come la Salomè che porta Erode e Oridia della testa del Battista che è di collezione Lemme che in realtà eh sembra una sorta di messa in scena eh tirata teatrale. Sono tutte opere prodotte dopo nello stesso periodo anche di un'incisione eh dell'incoronazione della Vergine del Cavaliere d'Arpino e che quindi dimostra come il Vignon ehm guardi un po' a tutto eh è una sorta di prodotto di studio e forse di ricerca di vecchie o di nuove vie. E nella durazione dei dei magi di Dayton già attribuita al Ferri di si si parla di ormai di un'ispirazione quasi rinascimentale Veneta, un'immagine molto preziosa che è vicina dal Scheimer, Lassmann, Ter Bruggen eh che sono altri riferimenti poi fondamentali del pittore. È verso la fine poi di questo soggiorno romano che compare un'opera purtroppo perduta ma eh nota da quest'immagine e un dipinto che eh vinse il concorso indetto dal principe Lidovisi, nipote di Papa Gregorio Quindicesimo, passato poi in collezione giustiniani molto precocemente. Situato cronologicamente nell'ultimo periodo della permanenza dell'artista mi sembra sia una specie di summa delle diverse esperienze artistiche del Vignon. Gianni Papi vedeva un'impronta riberesca in questa in relazione con le grandi scene orizzontali riberesche ma in realtà mi sembra anche innegabile la dipendenza dai banchetti veneti di Tintoretto e Veronese a cui poi il Vignon aggiunge un tono più classico nella modalità della costruzione, nell'ampio gesto del Cristo che si associa come ha notato acutamente la Bassani a dei personaggi che sono però dell'universo caravaggesco per esempio il personaggio sulla sinistra eh che versa l'acqua oppure ancora il personaggio eh sulla destra in secondo piano però l'opera contiene in germe tutti quelli che saranno eh i temi eh della sua produzione successiva. Ora ho presentato queste opere del periodo romano poche in realtà tralasciandone molte altre poiché mi sembravano quelle più adatte a rappresentare un artista che è stupefacentemente camaleontico, onnivoro nell'assorbire modi e suggestioni diverse proprio per questo è sfuggente e affascinante e anche l'inedito dipinto che presento oggi che fa parte delle collezioni di Vaticano e ha qualcosa di veramente sfuggente a cominciare dalla sua provenienza. Infatti compare in Vaticano nel millenovecentocinquantadue tra gli acquisti della segreteria di Stato ma eh nei documenti della segreteria di Stato eh null non non c'è traccia. Non c'è traccia del dipinto neanche nel nell'inventario stilato dell'atelier di Vignon stilato alla morte della moglie nel mille e se cento quaranta tre dove compare un Cristo di Fonte a Pilato ma non sembra essere eh aderente all'immagine che qui presento mentre nell'inventario delle opere stilato nel mille e seicento settanta alla morte di Vignon compaiono due ecceomo senza però indicazioni. La Bassani riporta tra le opere eh perdute del Vignon un ecceomo grande e un ecceomo mezzo busto proveniente quest'ultimo dal convento delle Madonnette ma anche di Parigi ma anche qui eh non si hanno ulteriori indicazioni quindi è difficile eh identificarlo con il nostro eh al contrario ha dato eh frutto il restauro realizzato nel duemina e quattro da Claudio Rossi de Gasperis all'interno del laboratorio pitture dei Musei Vaticani che ha reso possibile la scoperta della firma e della data anche se purtroppo lacunosa sul bastone tenuto in mano dall'anziano personaggio sulla sinistra. Il dipinto è dunque firmato ora faccio vedere un'immagine a infrarosso eh che non si vede benissimo comunque è firmato Vignon ed è datato mille e seicento venti ma non compare l'ultimo numero quindi non è possibile definire la data con certezza. A questo proposito vuole anche mettere in evidenza quanto sia importante all'interno di strutture come appunto i musei il restauro e la diagnostica che sono dei supporti fondamentali eh che si associano all'occhio dello storico dell'arte per poter eh diciamo approfondire e individuare eh certe caratteristiche del dipinto. L'opera come dicevo si concentra su tre personaggi principali. Cristo un ragazzo dal cappello piumato che a ben guardare è un elegante guardia munita di corazza e un personaggio anziano sulla sinistra eh identificabile come pilato. Però non ci troviamo di fronte a un ecceomo tra l'altro manca anche la corona di spine quanto piuttosto la fotografia di un momento precedente alla presentazione del Cristo flagellato e Vignon affronta il tema in modo abbastanza direi personale eh Cristo al centro con queste gote imporporate privo del tra l'altro del martello del mantello scarlatto ma abbigliato molto nobilmente non ha nulla di eh patetico sofferente quanto piuttosto ha un'aria quasi leziosa sembra quasi eh accogliere con pazienza e rassegnazione il suo futuro destino mentre il giovane dal cappello piumato sulla destra all'aria più di un paggio di un personaggio alla moda eh che quasi con grazia senza la feroce notato dai Vangeli afferra la veste del Cristo. Sulla sinistra Pilato guarda il il giovane indicando con il dito verso l'alto. Una luce piuttosto direzionata invenste la figura di Cristo mette in luce il volto il polso legato illuminando più tenuamente gli altri personaggi. Ora ricordo caravaggesco eh direi del caravaggio del più delle scene di vita quotidiana quasi non certo dei dipinti di afflato religioso con cui il dipinto di Vignon non mi sembra avere grande tangenza è stemperato da un pennello che poi disegna abbastanza nervosamente i panneggi degli abbinetti tratteggia con abilità quasi da miniatore eh le capigliature le barbe i piumi mh pelo e articola mani molto sinuose e sono proprio le mani irrorate di luce con il polso addirittura arrossato per la corda che lo stringe secondo me l'epricentro è la parte più alta del dipinto. Ci troviamo di fronte quindi a una letteratura a una lettura alternativa del caravaggismo mediata e filtrata in cui l'influenza del colorismo veneto si associa anche a dei ricordi toscani e fiorentini quella connection fiorentina e toscana già ipotizzata da Ivanov e da Mailchapp che mettevano a fuoco la possibile conoscenza dell'arte del cigoli del passignano di coccapani e difetti con cui tra l'altro l'artista è stato spesso confuso e a tale proposito mi chiedo se Vignon non possa aver riflettuto e ovviamente scelto altro nell'affrontare il tema sui dipinti di analogo soggetto collegati alla committenza massima intorno al 1645 proprio del cigoli del passignano e dello stesso caravaggio il più dipinto ancora non ben identificato e ancora oggi oggetto di eh dibattito. Eh difficile stabilire con certezza collocare crologicamente l'opera eh che penso possa essere inserita in quel gruppo di dipinti databili intorno al ventennio al secondo ventennio del seicento che ancora oscillano un po' incerti tra eh Parigi e tra Roma e Parigi perché vacillanti come stile se infatti la presenza del quadro potrebbe far pensare a una realizzazione negli anni la presenza del quadro a Roma potrebbe far pensare a una realizzazione negli ultimi anni del di permanenza dell'artista tra il venti e il ventidue ci sono alcune indicazioni che fanno propendere per una realizzazione a Parigi forse proprio dopo il suo arrivo mh ipotesi tra l'altro condivisa anche dalla Bassani che eh mi ha detto che sta elaborando eh cioè rivedendo la monografia e l'opera eh sembra infatti mostrare un un caravaggismo un po' più ammorbidito direi forse più superficiale che si concentra su pochi personaggi illuminato da una luce più poeta e dorata che si ritrova in altre opere degli anni venti a Parigi come Giuseppe che spiega i sogni di collezione privata un dipinto bellissimo adattabile intorno al ventitré ventiquattro forse che è una straordinaria creazione che stempera questi ricordi caravaggeschi anche qui evidenti ma superficiali mh in una sorta di favola cortese con tratti classici come ad esempio nella posa del personaggio sraiale che sembra quasi un antico dio fluviale d'altro canto però il dipinto è anche accostabile per alcuni versi eh al più tardo Creso che esige un tributo dal suo suddito che è firmato e datato del ventinove dove a ben guardare Creso ha delle fattezze molto simili a Pilato mentre eh sembra essere lo stesso il ragazzo con il cappello piumato che compare in entrambi le opere anche se poi la tipologia è una tipologia tipica utilizzata da Davignon e infine le mani forse poi sono sono la spia eh più importante perché queste mani ben articolate e allungate si 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 inseriscono molto bene nel periodo francese come mi faceva notare anche la Bassani l'immagine del Cristo poi ricompare analoga nella posizione nei tratti del volto nel Cristo dell'orto degli olivi della Cappella adorata negli nella chiesa dei Santi Gervasio Protasio a Parigi realizzata alla fine del ventennio da Vignon nel complesso comunque ci ci troviamo di fronte direi a un caravaggismo europeo un caravaggismo francese stemperato stemperato dalle numerose influenze da Ribera da Manfredi da Boggiani ma forse io direi anche dal Saracemi eh dal quale Vignon oltre che forse da questo ipotetico viaggio a Venezia eh può aver assorbito quel gusto coloristico veneto eh che può aver conosciuto poi tramite pittori conterranei che vi ravitavano nella bottiglia del maestro e un gusto che porterà con sé in Francia sommandolo poi a tutte le le suggestioni precedenti e successive del sempre presente sarà il ricordo del marierismo del suo primo maestro Bunel ma anche quello italiano romano quello arpinesco e e non solo trasformando tutto in una sintesi piuttosto originale dal sapore secondo me un po' classico e francese vicina per alcuni versi a voi e al mondo nordico gli esiti successivi infatti a Parigi eh saranno sempre più lontani dal caravaggismo della prima mariera a parte una produzione di figure di santi e padri della chiesa più o meno legata a Caravaggio come il il Sant'Ambrogio di Minneapolis dove una scusa avviassi alla conclusione sì sì ho finito eh che Vignon continuerà a produrre quindi Vignon andrà andrà per altre vie lo dimostra il paragone tra eh la nostra tela ancora legata ricordi caravaggeschi con l'ecce homo passato sul mercato antiquario e noto solo da foto datato dalla Bassani agli anni trenta il culmine della carriera artistica un vero e proprio ricordo direi ormai della tega del della tela del Cigoli per il mitico concorso Massimi ormai lontano da Roma Vignon fa la sua scelta rifacendosi piuttosto che al naturalismo del grande Lombardo alla nobiltà di espressione ai colori raffinati all'armonia del disegno a una maniera preziosa che sarà poi il suo timbro caratteristico in Francia quindi possiamo condividere ancora oggi le parole di Roberto Longhi non mai liberatosi da una cultura di spiritoso manierismo il Vignon fu assai parcamente caravaggesco così come secondo me parcamente caravaggesca fu la stessa Francia del seicento che in realtà rimase un piuttosto impermeabile poi alla reazione merisiana ho finito grazie e quindi ringraziamo la dottoressa Rodolfo per questa ampia carrellata su un pittore comunque estremamente interessante a me hanno colpito in modo particolare le bellissime maniche Vignon inserisce in tutti i suoi dipinti e quindi questa giornata di oggi ha mostrato l'ampliamento della cultura caravaggesca prima in Spagna ora in Francia un caravaggismo come è stato sottolineato spesso edulcorato comunque il dibattito lo rinviamo al termine della giornata do subito la parola a Fabio Scaletti che è molto noto non ha bisogno di presentazioni scrittore e critico d'arte e autore anche del prezioso catalogo ragionato delle opere autografi attribuite e controverse di Caravaggio un'opera in due volumi dell'editore Paparo e Scaletti parlerà appunto di Caravaggio la questione attributiva prego e buonasera ringrazio gli organizzatori ideatori del convegno saluto i partecipanti gli studenti colleghi fra cui dovrebbero esserci anche degli miei colleghi americani la professoressa Pulisi di New York e il professor Stone dell'Università del Delaware poi forse anche Geshe in Scozia e Sciberras a Malta che così condivideranno con me queste mie riflessioni io mi occuperò mi occupo vediamo adesso di condividere con voi il tutto ok ecco qua la tematica è quella delle attribuzioni quindi come da catalogo ragionato che è uscito nel 2017 il mio catalogo ragionato io mi occupo non mi occupo di tanto di interpretare le opere di Caravaggio o magari in particolare della biografia ma soprattutto di capire qual è il corpus delle opere autentiche di quelle che magari sono da cercare e di tutto ciò che riguarda le attribuzioni quindi mi occupo solo esclusivamente dell'aspetto attributivo allora intanto una premessa non c'è nel caso dei maestri antichi e men che meno del Caravaggio un mento un'istituzione che rilascia la patente di autenticità sono gli studiosi che con le loro opinioni che si accumulano si confrontano determinano poi alla fine quello che può essere può entrare nel catalogo come opera autentica oppure come attribuita oppure come replica copia eccetera eccetera io ho individuato tenendo presente sempre sempre perché il mio lavoro è questo di tenere presente quello che dicono gli studiosi sul campo attualmente le opere considerate o considerabili certe del Caravaggio sono una settantina naturalmente alcuni per alcuni sono di più per altre sono di meno ma tendenzialmente questo è un numero che possiamo ritenere acquisito quasi tutti questi quadri si trovano nelle chiese nei musei pochissimi sono in collezioni private su cosa su come uno studioso del Caravaggio diciamo decide per un'attribuzione o meno di un dipinto più volte l'ho scritto e ho definito con una formula che si usa nel marketing nel marketing diciamo commerciale le famose tre P nel marketing commerciale sono tre P che si osservano pubblicità, propaganda eccetera eccetera nel caso del Caravaggio sono tre P cioè perizie, pedigree e prove il primo elemento la perizia, la perizia è quella sostanzialmente il classico colpo d'occhio dello studioso uno studioso vede il quadro, ne studia l'iconografia, la composizione magari con la lente di ingrandimento cerca di capire un po' le pennellate l'andamento del ductus, i colori, quello che insomma una volta era l'occhio del critico l'iconografia in particolare è importante perché quando uno studioso di Caravaggio è abituato a vedere per anni e anni le opere sicure sue si forma un'immagine e quando arriva un'immagine compatibile la considera caravaggesca quando invece è incompatibile la respinge è chiaro che, faccio un esempio banalissimo se uno mi fa vedere un quadro un panorama boschivo con figure piccoline, mitologiche tutto azzurro e dico qui Caravaggio non c'entra niente non lo si prende neanche in considerazione Viceversa, quando in base a certi aspetti del quadro la cosa è fattibile, cioè l'attribuzione è possibile allora si va ad approfondire Il secondo elemento l'ho chiamato pedigree Pedigree ovviamente è un po' la storia del dipinto cioè questo dipinto che storia ha ne parlano le fonti è citato negli archivi oppure questo esemplare che provenienza ha da dove viene è chiaro che più il dipinto le credenziali, i documenti riportano nel passato fino addirittura a congiungerlo con quando Caravaggio l'ha fatto è chiaro che quel dipinto è più facilmente suo Diciamo che al giorno d'oggi trovare un dipinto oggi che come documenti riesce a a collegarsi al passato al seicento addirittura ai primi del seicento quando Caravaggio potrebbe averlo fatto è difficile però può succedere qui fra l'altro si distinguono gli studiosi fra chi è più o meno restrizionista o espansionista perché i restrizionisti dicono che se un quadro non è citato dalle fonti non ha appoggi documentari inventariali non va preso in considerazione gli espansionisti invece dicono che è un aspetto questo importante però il quadro va studiato anche per altri aspetti fra cui appunto l'iconografia e le prove scientifiche e quindi introduco il terzo elemento le prove ovviamente questo è un fattore un elemento di nuova di nuova generazione perché fino a pochi decenni fa le cose nell'aspetto scientifico sì era importante era considerato ma con i mezzi di allora era limitato oggi abbiamo degli strumenti delle strumentazioni molto sofisticate che ci fanno vedere come il quadro è stato fatto la tecnica impiegata e in base su di fatti che si accumulano possiamo capire qual è la tecnica del Caravaggio e quindi capire cosa c'è dietro il dipinto i pentimenti le incisioni eccetera su cui in questo momento e chiaramente in questa occasione non mi soffermo però è un elemento questo terzo delle prove scientifiche molto importante che non è decisivo però dà come dire una compatibilità e può essere di molto aiuto per soprattutto al giorno d'oggi per me per gli studiosi le attribuzioni io parlerò adesso farò sono in tutto una dozzina di quadri che ho selezionato perché e perché li ho selezionati cioè come mai saranno solo questi ho detto che le opere del Caravaggio sicure sono una settantina però ce ne sono altre tante che sono diciamo sotto attribuzione che alcuni autenticano altri no e sono l'oggetto poi su tutti questi del mio catalogo ragionato uscito nel 2017 in questi cinque anni però è accaduto qualcosa e io mi occuperò proprio di queste nuove attribuzioni che sono uscite in questo quinquennio e di cui poi darò conto nell'edizione che è in preparazione nell'edizione inglese del mio catalogo ragionato e incomincio con con quest'opera che voi vedete l'incredulità di San Tommaso allora questo è un esempio emblematico perché noi abbiamo in questo caso le attribuzioni sono ci sono i famosi casi dei doppi i famosi casi dei doppi sono opere che il Caravaggio sicuramente ha fatto abbiamo un originale riconosciuto però possono venire fuori degli altri quadri che aspirano ad essere anche essi autentici quindi noi l'iconografia ce l'abbiamo già perché siamo sicuri e bisogna vedere se a questo punto si tratta di una copia o di una replica autografa oppure addirittura di una prima versione di cui l'autografo riconosciuto diventa in pratica seconda versione ed è il caso per esempio cito il caso della medusa per esempio la medusa degli uffizi è un quadro sicuramente del Caravaggio non ci sono dubbi negli ultimi anni parecchi studiosi hanno autenticato la versione che c'è a Milano ormai è conosciuta è andata in moltissime mostre internazionali come autentico io stesso la ritengo autentica quindi abbiamo un caso recente di doppio questo dell'increduzione di San Tommaso è un altro caso e inizio con questo perché ho avuto la fortuna io di essere l'autore di questa scoperta e di questa autenticazione che ha avuto poi un riscontro favorevole anche da parte di altri autorevoli studiosi che in questo momento non cito cito solo perché so che è presente il nostro moderatore il professor Sergio Rossi che aderisce alla mia attribuzione questo quadro volete ma perché è autentico e chiaramente io ho fatto pubblicato uno studio nel 2018 in cui spiego tutte le ragioni di questa autenticazione qui per questione di tempo mi limiterò a esporre l'aspetto più storiografico ossia che io ritengo che il Baglione che come sapete quasi tutti è il biografo uno dei tre biografi principali del Caravaggio dice scrive e aveva conosciuto Caravaggio ovviamente quindi era molto ben informato che Caravaggio aveva fatto un'incredulità di Sant'Omaso per i Mattei si sa però che l'altro biografo il Bellori ha scritto che Caravaggio ha fatto per il Giustiniani un'incredulità di Sant'Omaso l'incredulità di Sant'Omaso Giustiniani è stata trovata da tempo si sa si trova al museo di Berlino post San Berlino e quella è l'incredulità di Giustiniani ed è sicura del Caravaggio però direte ma allora si è sbagliato potrebbe essersi sbagliato il il Baglione certo tutto è possibile ma il Baglione nelle sue affermazioni quando parlava dei quadri del Caravaggio non si è mai sbagliato tutte le tutto quello che lui ha scritto relativamente ai quadri del Caravaggio si è verificato vero cioè ci sono i quadri registrati di cui parla il Baglione sarebbe questo l'unico caso quindi io sono andato alla ricerca della incredulità di Sant'Omaso Mattei credo che sia questa che vi presento che è in collezione privata anche perché poi gli esami scientifici sono favorevoli mi limito a dire che c'è un piccolo no piccolo un consistente pentimento nella parte sinistra dove in questo punto c'era un si intravede anche un un mantello più ampio del Cristo che qui lascia scoperta la gamba ci sono poi altre versioni interessanti con delle piccole delle piccole modifiche passo adesso a un'altra a un altro dipinto questo è il San Francesco in meditazione vale lo stesso discorso che ho fatto per il incredulità di Sant'Omaso l'iconografia è sicura del Caravaggio almeno quasi tutti gli studiosi salvo qualche eccezione ovviamente ritengono che Caravaggio ha fatto un quadro come questo anzi Caravaggio il quadro che Caravaggio ha fatto è ormai entrato in tutti i cataloghi ed è quello di Carpinetto Romano nella versione che adesso è a Palazzo Barberini qualche studioso anche importante privilegia invece quello che è alla Chiesa dei Cappuccini quindi siamo già in un certo senso già di fronte a un caso di doppio però ultimamente è venuta fuori oddio questa è una versione cosiddetta ex Cecconi perché nel 1922 era Firenze in collezione Cecconi quindi non è un quadro proprio nuovissimo già all'inizio del novecento erano gli studi però è stato praticamente dimenticata questa versione negli anni dopo gli anni 2000 è stata studiata dal punto di vista scientifico è stata portata in alcune mostre e è molto interessante a mio avviso questo è un quadro del Caravaggio perché in questo caso evidenzierò l'aspetto scientifico cioè grazie alle geografie e alle riflettografie si capisce che questa non è una copia perché si sono stati trovati dei pentimenti e non sono pentimenti marginali che uno potrebbe dire vabbè potrebbe essere un copista che ha avuto qualche esitazione che ha cambiato qualcosina qui si tratta proprio di spostamenti importanti il teschio che voi vedete fra le mani prima era in basso al posto della roccia il crocefisso al posto del teschio che adesso è nelle mani c'era un libro in alto c'era un crocifisso quindi sono stati fatti dei cambiamenti importanti che sono incompatibili secondo me con l'ipotesi della copia senza contare vabbè naturalmente gli enziami chimici dei pigmenti che sono propri della tavolozza del Caravaggio andiamo avanti perché purtroppo il tempo i quadri da vedere non sono tantissimi però sono non sono neanche pochissimi questo è un caso anche questo molto recente di presunto doppio forse alcuni ne avranno letto sui giornali è stato in mostra questo quadro a Camaiore è San Giovanni Battista di Steso di collezione privata maltese come diciamo originale o come comunque replica autografa di un quadro che è in collezione privata a Monaco di Baviera uno dei pochi quadri in collezioni private sicuramente o almeno acquisito ormai al Caravaggio questo secondo alcuni si propone come ulteriore doppio come opera autentica collegandolo con degli archivi dei medici il quadro purtroppo è molto è molto rovinato è molto danneggiato e quindi andrebbe andrebbe studiato meglio per questo aspetto ma è un altro caso recente di doppio adesso abbiamo un caso molto noto che è quello del mondo a frutto un ragazzo che monda una pera una mela un melangolo un limoncello ci sono varie interpretazioni allora in questo caso qui noi non abbiamo un originale sicuro da confrontare per cui dire va bene questa è copia non è copia eccetera perché un originale sicuro per gli studiosi non c'è ancora gli studiosi si dividono nell'appoggiare quattro versioni le cosiddette la versione diciamo che è in collezione Dickinson la versione che è in collezione privata romana la versione che ha la regina di Inghilterra nelle raccolte reali e la versione cosiddetta ex Sabin che poi è finita a Tokyo adesso è in Svizzera queste quattro si contendono secondo gli studiosi la palma di originale tutte sono molto interessanti a mio avviso in questo momento la versione di Roma in collezione di pirata di Roma è quella che ha più bibliografia più studi dietro e invece quella di Tokyo che è proprio questo che state vedendo no ecco questa qui la prima questa qui che vedete con il ragazzo a tutta figura è quella di Roma che ho appena detto e questa qui che vedete in questo momento è quella che era Tokyo adesso in collezione privata svizzera e che è molto interessante qui vedete che è più un primo piano rispetto a quell'altro di questa sono pochi gli studiosi che che l'hanno avuto la possibilità di studiare e di vedere gli amici scientifici perché sono cose molto recenti e questo è un quadro che va approfondito perché ci sono aspetti molto molto interessanti e mi riprometto di indagare meglio questo quadro che peraltro studiosi importanti negli anni Ottanta avevano già autenticato e adesso probabilmente viene rilanciato dai nuovi studi che sono stati fatti ma passiamo a un altro caso diciamo che di cui hanno parlato negli anni scorsi molti molti giornali eccetera la famosa Maddalena in Estasi Maddalena in Estasi è un quadro che Caravaggio di cui non abbiamo secondo la critica unanime che è divisa fra i vari esemplari l'originale sicuro da confrontare però questa versione che voi vedete che è quella scoperta nel 2014 da Mina Gregori è secondo me il quadro originale che tanto si cercava la critica non tutta la critica l'ha accettata io però mi limito a citare il famoso cartellino che è allegato al dipinto è un cartellino secentesco la cui autenticità è stata confermata scientificamente dalle università di Roma e recita questo cartellino quello che esattamente doveva essere per è praticamente perfettamente compatibile con quello con la famosa lettera del vescovo Scipione Borghese che gli diceva che avrebbe conservato a Napoli questa maddalena in estesi per lui e si avrebbe stata mandata e dietro il cartellino il cartellino recita proprio il quadro del Caravaggio Maddalena reversa da consegnare a Scipione Borghese quindi i casi sono due o si tratta questo cartellino di un falso fatto nel novecento fatto l'anno scorso o fatto quando volete e che quindi è facilmente smascherabile oppure è per forza il quadro autentico non ci sono altre possibilità un'altra versione si trova cioè le versioni sono tantissime sono almeno una dozzina di cui diciamo tre o quattro molto interessanti questa è una è un'altra molto interessante perché probabilmente io sono fra gli studiosi che ritiene che Caravaggio anche di questo quadro ne abbia fatti due uno a Napoli prima di partire e uno quando è scappato nel 1606 da Roma nei feudi Colonna probabilmente il primo questo è quello che ha fatto a Napoli e si deve andare a cercare quell'altro quindi questo qui che adesso si trova in collezione privata ex Conti Pacelli ecco per intenderci per gli studiosi è uno e questo potrebbe essere l'altro ma c'è anche che si trova in Abaduz si trovava Abaduz adesso è in Svizzera ma c'è anche la famosa versione ex Klein che è un quadro veramente molto interessante che potrebbe essere del Caravaggio passiamo adesso a un quadro che tutti sicuramente conoscete perché è stato oggetto di 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 interesse da parte della televisione e dei medi di tutti i media perché doveva essere venduto all'asta come sapete l'anno scorso per 1500 euro poi è stata naturalmente fermata tutta l'asta perché tanti studiosi a Valanga si sono espressi positivamente su questo dipinto al Eceomo che si trova a Madrid dicendo che questo è l'originale del Caravaggio tutti però hanno aderito dal punto di vista stilistico io per il momento ho sospeso il giudizio perché a mio avviso il quadro va visto dopo il restauro perché deve essere restaurato adesso in ottime condizioni e voglio vedere le analisi scientifiche dal punto di vista iconografico mi piace molto anche a me devo dire però per esprimere un giudizio definitivo attenderei gli esami scientifici e la pulitura in caso favorevole direi che nulla osta all'inserimento nel corpus del Caravaggio passiamo ad un altro quadro meno noto si sa da nuove ricerche che probabilmente Caravaggio ha fatto Napoli un San Gerolamo per il conte Mastrillo di Napoli ed è stato proposto questo dipinto che però a mio avviso è interessante e va studiato ma naturalmente l'attribuzione a Caravaggio si deve fare con i piedi di piombo in questo caso come anche in altri ovviamente questo è un caso conosciuto da Giuditta Loferne Giuditta Loferne Caravaggio probabilmente l'ha fatta Napoli anzi sicuramente l'ha fatta ma come l'ha fatta secondo gli studiosi la maggior parte ritiene che l'iconografia sia questa e per anni puntava su un quadro al Banco di Napoli che era adesso di banca intesa di recente negli ultimi anni è uscito a Toloso è stato trovato questo quadro che molti hanno autenticato ma molti altrettanti hanno respinto adesso si trova in America prima doveva essere acquistato da Louvre che non l'ha acquistato io non mi sono pronunciato né per il sì né per il no perché devo dire che da un lato mi piace molto perché l'iconografia mi convince c'è qualche punto debole forse l'ipotesi di una collaborazione in questo caso tra Caravaggio e la bottega del Finson potrebbe essere la via la via giusta qui andiamo in un campo quello della ritrattistica che Caravaggio ha sicuramente frequentato lui ha fatto sicuramente molti ritratti ma noi ne abbiamo pochissimi fra i candidati in questi ultimi decenni ce ne sono tre interessanti che sono il ritratto di Cardinale il ritratto di Maffio Barberini che ce ne sono due uno Corsini e uno in collezione privata di Firenze e il ritratto di Paolo Quinto quest'ultimo secondo me è quasi sicuramente del Caravaggio che adesso è in collezione borghese di recente in questi ultimi anni c'è stata la proposta di riconoscere il Caravaggio la mano del Caravaggio in quest'opera che è il ritratto di Prospero Farinacci che sicuramente Caravaggio ha fatto perché risulta da gli inventari giustiniani che non sbagliano però bisogna capire se questo è il quadro giusto come iconografia cioè come c'è l'immagine del Farinacci e probabilmente le altre immagini che noi abbiamo da incisioni del Farinacci non assomiglia molto al personaggio però questo non sarebbe decisivo ecco perché la sua somiglianza bisogna vedere da punto di vista scientifico sembra che le cose siano abbastanza favorevoli però è un quadro che va che va studiato anche questo è un quadro che va studiato meglio potrebbe essere del Caravaggio ma chiaramente io lo considero per ora attribuito questa è la caraffa di fiori e siamo a un altro campo che Caravaggio ha frequentato ci vediamo alla fine questo è il penultimo quadro che vediamo che vediamo oggi è la caraffa di fiori appunto che Caravaggio ha sicuramente fatto anche qui l'inventario del monte è affidabile risulta che c'era una caraffa di fiori del Caravaggio di palmi 2 cioè in sostanza il verticale sono circa 45 centimetri esattamente com'è questo quadro e chiaramente non è che questo è del Caravaggio solo per le dimensioni ovviamente questo quadro è stato autenticato da da Maurizio Marini famoso studioso di Caravaggio che è mancato è scomparso e e da pochi altri la critica tutto sommato non l'ha accolto molto positivamente secondo me ha torto perché il quadro ha un suo un suo pregio e devo dire per quello che oggi l'ho voluto citare ci sono delle nuove indagini che io ho potuto conoscere nel 2018 quindi successive alla pubblicazione del mio catalogo ragionato che sono abbastanza promettenti chiudo con il tema sempre della natura morta perché il tema della natura morta è molto di Caravaggio molto dibattuta lui l'ha frequentata la natura morta ne ha fatti di quadri di natura morta ma noi alla fine abbiamo solo di sicuro la canestra di frutta altri quadri non stati attribuiti Zeri aveva fatto un suo studio e proprio Zeri questo dipinto l'aveva un po' accennato inserito all'interno di uno suo studio o comunque dei suoi studi io lo ripropongo perché ci potrebbe essere l'ipotesi che Caravaggio che questo qui sia un quadro dove Caravaggio ci ha messo mano ma non a Roma perché non è un quadro di stile tipicamente romano ma addirittura quando era in Lombardia non facendolo tutto lui perché per esempio ci sono alcune parti più di aria come posso dire fiamminga ma potrebbe averle fatto insieme a dei suoi colleghi quando era in Lombardia nel proprio atelier dove si esercitava facendo ritratti in natura e morte e a lui potrebbero spettare alcune parti la composizione in generale e alcune parti come i vetri questa parte qua sulla sinistra è molto molto bella alcuna una parte dei frutti questo vaso sul fondo che sembra cadere dietro questa parte di me ci sembra cadere davanti e chiaramente questa è un'idea per capire come Caravaggio nasce come autore di di natura e morte che all'improvviso esplode a Roma ma invece potrebbe avere un passato anche in Lombardia direi che penso di aver finito vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per qualsiasi domanda bene ringrazio il dottor Scaletti per questa sua esaurentissima relazione anche per i tempi è stato incredibilmente sintetico e capace di come dire sintetizzare in poco più di mezz'ora uno dei problemi più dibattuti della teoriografia caravaggesca intanto dalla sua relazione emerge un dato che secondo me ormai è in dubbio è consolidato cioè che Caravaggio non era Paganini che non si ripeteva cioè Caravaggio ha sicuramente fatto delle repliche ai suoi quadri a volte vere e proprie repliche a volte ha dipinto il medesimo soggetto cambiandolo in modo anche significativo basta pensare a tutti Davide e Golia che lui ha fatto che era un tema che lo ossessionava come il dottor Scaletti sa io condivido in pieno l'ho anche pubblicato nel libro di imminente che appunto praticamente dovrebbe uscire a giorni specialmente tutte le prime sue indicazioni quelle relative all'incredulità di San Tommaso che fa tonata delle osservazioni di Scaletti che ora qui non ha detto ma che trovo molto interessante che il San Tommaso è l'unica delle varie versioni che presenta sette rughe mentre tutte le altre hanno sei e quindi è molto probabile che sia un dipinto che è rimasto per certi versi non copiato cioè che quello più copiato è l'altro e a proposito dei Mattei un altro dipinto in parte attribuzione che io condivido e che ho studiato è quella del San Francesco e Cecconi che io sono convinto che sia anche questo un dipinto eseguito per i Mattei e quindi retrodatato rispetto a quello dei Cappuccini e fra l'altro se posso anticipare brevemente quando ancora questo diciamo Cecconi non era era già studiato perché è un dipinto appunto come diceva Scaletti su cui alcuni dei massimi studiosi di Caravaggio insomma si sono appunto sui casi sono espressi in modo molto favorevole però proprio studiando quello ora a Carpineto sia Lavogré che Pupillo facevano un'osservazione che secondo me è un'osservazione come dire una prova è contrario loro dicevano questo quadro di Carpineto che è sicuramente dipinto nel 1606 cioè quando Caravaggio addirittura quando Caravaggio va via da Roma nel suo stile è più addolcito e sembra retrodatato è strano come mai un quadro del 6 sembra fatto nel 3 e come mai quello dei Cappuccini che ormai dopo studi sempre di Pupillo si considera una copia di altissima qualità ma una copia sembra appunto più retrodatato rispetto a questo dei Cappuccini di Carpineto ma perché secondo me il prototipo è proprio questo fatto nel 1603 per i Mattei e quindi non ci sarebbe nessuna contraddizione nel senso che quello è un quadro non retrodatato è un quadro che è stato fatto prima e che il copista di dei Cappuccini che potrebbe essere Prospero Orsi ha appunto visto dai Mattei un altro elemento che è emerso negli studi mi piace che oggi il professor Strinati non sia presente ma sicuramente verrà prima della fine del convegno una sua tesi che io condivido e bisogna considerare in modo più determinante l'influsso di Prospero Orsi il famoso turcimanno di Caravaggio è una figura che probabilmente andrebbe più più indagata e per esempio sempre nell'archivio Mattei a proposito dell'includità di Santo Maso c'è sicuramente una replica di Orsi che poi è finita non ci sa dove sia finita ma è potrebbe cioè una replica un dipinto di Orsi che non sapendo dove è finita non sappiamo diciamo in che cosa consiste esattamente ma la mia ipotesi sono un'ipotesi una giopposizione e che possa essere una replica delle due versioni dell'incredulità di Santo Maso e ancora ormai sul San Giovannino disteso non quello di Camaiore e l'altro diciamo che la critica è tutta concorda quello di Camaiore è ancora diciamo ci sono le perplessità di alcuni e anche quella è un'attribuzione che mi sembra ormai indiscutibile e anche rispetto al al mondo a frutto la versione Exabin io l'ho studiata anche da un punto di vista iconografico che trovo molto interessante e ne do un'interpretazione sempre nel libro diversa da quelle correnti cioè per me è indubbio che si tratti anche di un'allegoria dell'epocarestia cioè io la collego all'interessantissimo studio che ha compiuto Dalma Frascarelli sul ragazzo con un cesto di frutta e fra l'altro appunto è un dipinto che potrebbe essere anche quello addirittura il prototipo anche lì ci sono diverse versioni per cui ipotetiche ce ne sono tutti quattro secondo me un paio che sono che possono aspirare ragionevolmente ad essere considerate originali tra questo appunto quella di Londra sono a mio avviso le più accreditabili in questo senso e anche l'aspetto chiaramente acerbo di quel dipinto è più lombardo si spiega con il fatto che potrebbe essere un un prototipo secondo me sempre dipinto a Roma perché esistono dei collegamenti con il famoso Monsignor Pandolfo Gucci cosiddetto Monsignor Insalata che poi non era assolutamente un affamatore di popolo come ce lo descrivono le fonti era una persona colta e molto collegata anche con alcune delle accademie più importanti anche di Perugia di Roma e quindi lì Caravaggio è stato sicuramente ora io sono convinto ma questa è una mia opinione che sicuramente scantenerà profondi dibattiti che Caravaggio sia venuto a Roma ben prima del 96 cioè è sicuro che lui è a Roma nel 96 per me è impossibile che lui sia venuto nel 96 nel senso che tutti i quadri non può avere fatto in due anni quel numero così importante di quadri che avrebbe dovuto fare se fosse venuto in questa data quindi almeno un paio d'anni la venuta a Roma dovrebbe essere anticipata ma questo è un altro argomento che succederà sicuramente molte polemiche e se posso chiudere vabbè per alleggerire un po' il tono con una mia battuta sempre a proposito di eh Andolfo Pucci e Monsignore Insalata appunto di ehm il Mancini dice che Caravaggio aveva dato questo nome di Monsignore Insalata a questo personaggio perché a cena gli dava solo un piatto di insalata per antipasto per pasto e per post pasto ora sapendo come Caravaggio aveva trattato il garzone d'osteria a Roma che mi aveva portato un piatto di carciofi cotti con l'olio come in realtà si devono cuocere invece che col burro che gli aveva tirato in faccia io immagino che la terza sera che il cameriere di di Monsignore Pandolfo Pucci si fosse presentato con un solo con un piatto di insalata Caravaggio avrebbe distrutto il palazzo come minimo quindi questo per dire che le fonti è giustissimo che Baione sui quadri puro di Ando Caravaggio sui quadri e ci azzecca sempre però la sua come la biografia del Mancini un po' meno quella del Bellori ma anche quella del Sandra sono intessute di aneddoti che rientrano un po' nei topos che ritroviamo in Vasari ci sono dei topos per esempio appunto questo dell'artista che arriva affamato che va nella bottega nel caso dei racconti di Vasari è sempre un altro pittore qui nel caso di Caravaggio sono invece spesso dei committenti che viene affamato è trattato male torna talmente spesso questo racconto che sicuramente è appunto un topos letterario più che un racconto veritiero quindi questo per quello che riguarda questa interessantissima relazione invece tornando al tema avanzato dalla professoressa ma ciò c'è del bando capitale cioè che non era assolutamente una condanna a morte ed è sicuro è così però ecco io voglio avanzare un'ipotesi anche del perché e questo vorrei poi che fosse più o meno commentata dai presenti del perché lui era comunque sconvolto che Caravaggio negli ultimi tempi avvesse paura di essere ammazzato un dato di fatto bando criminale o no e questo probabilmente ma io di questo non sono sicuro perché non sono non ho approfondito l'argomento ma così per quello che ho letto e per quello che mi sembra di avere compreso anche da tutti i documenti e dalle fonti il in questo caso il problema centrale va visto nella famiglia dei tommassoni i tommassoni non hanno mai perdonato Caravaggio e per poter essere esentati da ogni tipo di problemi bisognava che o il ferito il colpito personalmente o la famiglia nel caso anche ovviamente di un dubbio di un omicidio perdonasse il colpevo come è avvenuto per esempio nel caso del notaio Pasqualone che Caravaggio gli aveva spaccato la testa in due poi si sono appacificati e quindi Caravaggio non ha avuto problemi di tipo penale dopo ma dal momento che i tommassoni che fratto era una famiglia di Caporioni era una famiglia molto importante e molto influente non ha mai perdonato Caravaggio ecco allora il mio la mia ipotesi così che voglio sottoporre al vostro giudizio è in che modo questo può avere determinato in Caravaggio un così questo senso di fuga continua che lui indubbiamente aveva cioè secondo me se qualche parente dei Tomassoni detto diciamo brutalmente se qualche parente dei Tomassoni l'avesse ucciso non sarebbe in corso in nessun non avrebbe subito nessun processo cioè avrebbe potuto farlo che ne pensate questo ecco lo lascio al vostro ha alzato la mano Andrea Spiriti ok mi sentite? sì mi sentite? sì ok allora io volevo invece mi sia permesso di deviare un attimo poi magari ritorniamo su bandi e pene capitali varie e sull'intervento di Alessandra Rodolfo mi ha colpito un dettaglio nel presunto ecceomo di Vignone ammettiamo pure che i tratti di costume orientaleggianti godono di una vasta alternativa libera tra Anna Caif e Pilato come del resto gli altri due ciòmo poi mostrati con Pilato che è sicuramente lui col turbante palesemente dimostrano tuttavia mi pare di notare che quella presenza in mano non di un semplice bastone di comando da parte del personaggio anziano che potrebbe essere consueto penso a Stocchi penso ad altri casi quanto invece di una vera e propria verga linea fa pensare a mio avviso a quella tipologia iconografica della versione diciamo in scala ridotta della verga di Mosè da parte dei sommi sacerdoti o degli ex sommi sacerdoti e allora se noi lo combiniamo con l'altro dettaglio del dito alzato verso l'alto mi parrebbe ragionevole il rimando a Giovanni 18 cioè a Giovanni 18 cioè al fatto che Giovanni citi con enfasi Anna quindi sommo sacerdoti e non Caifa come il protagonista della protofase del cosiddetto processo di Gesù ora ciò detto potrebbe essere interessante leggere in quei termini quando poi lo sgherro ricordo ma almeno a Gesù perché avrebbe nella sua idea mancato di rispetto al sommo sacerdote dicendo io ho parlato in pubblico quindi in pubblico si sono recepite le mie parole e poi sapete allora a questo punto mi domando ma ovviamente è chiaro che rimane sempre un tasso di ambiguità in queste tipologie se nella strutturazione che può oggettivamente ricordare un ecceomo non si cede invece una più rara ma non assente penso semplicemente all'ambiente dei sacri monti lombardi penso che caso parese la tipologia invece del processo di Gesù da interrogatorio di Gesù davanti ad Anna con le percorse dello scherro del sommo sacerdote emerito solo un suggerimento iconocampo di avanzare la discussione sì no in realtà sono stati in dubbio fra Anna Caifa e Pilato devo dire rileggendo i brani del Vangelo in effetti potrebbero essere tutti tre i personaggi però c'è la verga però c'è la verga non c'è la verga però la verga poteva essere anche il bastone che poi viene dato in mano a Cristo ne avevamo parlato pure con Sergio Rossi proprio se considerarlo un Pilato oppure un Anna o un Caifa è un argomento in realtà uno spunto molto interessante quello che mi sta no perché faccio notare un dettaglio cioè che il tema del bastone nei casi almeno a me notti è sempre liscio è sempre un bastone tornito questo invece è una verga questa rega è ai piccoli racemi ora faccio notare come questa iconografia del micro racemo ha una sua vastissima diffusione milanese a cominciare dal caso palesemente cristologico addirittura in architettura che è la colonna angolare di Bramante della canonica di Santa Proge e che è cristologico fortemente e che nel caso ovviamente è in Cristo il nuovo legislatore il nuovo Mosè che è tradangono con tutti i valori iconici susseguenti quindi a mio avviso è vero che il tasso di amiguità permane però forse delle tre l'iconografia Anna Anna intendo il secondo testo Giovannino potrebbe forse essere quella più plausibile mi permetto di suggerire sì anche se Vignorno non ha mai delle iconografie particolarmente elaborate e complicate quindi mi sembrerebbe un po' strano questo approfondimento a meno che non gli sia stato suggerito da una committenza che purtroppo non sono riuscita a chiarire perché quello sarebbe stato fondamentale per capire l'origine del quadro e forse anche l'iconografia mi sono orientata sui passi del Vangelo devo dire che una delle ipotesi era anche per non essere troppo lunga nell'intervento era stata assolutamente quella perfettamente ragione mi piacerebbe anche scandagliarla magari ci proverò però ecco in mancanza di documentazione è un po' complicato chiaramente comunque grazie perché è una pista di ricerca ovviamente sì sì assolutamente grazie a lei delle ottime delle ottime indicazioni figurative grazie ecco se qualcuno vuole anche continuare altri interventi il professor Papa lo coinvolgiamo nel dibattito mi sentite? ok ok sì no dicevo ho visto che ci sono alcune domande che mi sono state rivolte non so se volete sì infatti era una delle cose che volevo dirti sì dunque allora ce n'è una beh risponderò tutte rapidamente una che ho visto adesso mi diceva relativo alla Giuditta Loferne di Tolosa e mi si obiettava che appunto avevo avevo detto che praticamente l'esemplare del Finson era quello di del Banco di Napoli chi l'ha fatto se l'ha fatto il Finson l'ha fatto in collaborazione il mio parere probabilmente non è stato chiaro io ritengo che quello del Banco di Napoli sicuramente non è del Caravaggio è probabilmente una copia di un originale e forse l'ha fatto il Finson quello invece di Tolosa è lì che c'è forse la collaborazione tra Caravaggio e Finson in base agli ultimi studi fatti sull'attività della bottega del Finson dove a mio avviso concordo con gli ultimi studi fatti da altri esperti che probabilmente Caravaggio ha lavorato nella bottega del Finson e quindi i quadri fatti da lui in quella situazione potrebbero essere frutto di collaborazioni o magari sono stati anche facilmente copiati quindi questo era per chiarire un mio pensiero che forse appunto o non era stato compreso bene o magari non era stato chiarissimo un'altra un'altra domanda era relativa a mi sembra quando secondo me è stata fatta la Maddalena cosiddetta Gregori questa è una domanda interessante ma non c'è una risposta io quello che ritengo è che sicuramente Caravaggio ha fatto una Maddalena in estasi ne ha fatta una sicuramente nel Feu di Colonna e probabilmente ne ha fatta una anche a Napoli quella Gregori è secondo me un assoluto originale non so se è quello che lui ha fatto a Paliano nel Feu di Colonna o l'ha fatto a Napoli sicuramente è quello che era a Napoli a Chiaia e che doveva andare a Scipione Borghese poi mi pare che c'era un'altra domanda ancora vediamo questa ok ah se conosco la la fiasca di fiori dei musei di San Domenico di Forlì sì certo la conosco è un un bellissimo quadro però ecco io mi occupo di possibili attribuzioni a Caravaggio e l'attribuzione o comunque il collegamento alla mano diretta del Caravaggio allo stato attuale degli studi odierni si esclude per quel per quel dipinto che però è veramente sicuramente un dipinto bello caravaggesco fatto da un seguace del magari del Caravaggio però per quanto mi riguarda mi limito a escludere un rapporto diretto con il Caravaggio e poi c'è un'altra domanda riguardo all'ecceomo che datazione potrebbe avere io concordo con la datazione di alcuni studiosi e non magari di altri secondo me è intorno al 1609 quindi abbastanza tardo alcuni credo lo mettessero forse al 1607 8 escludo che sia del periodo romano e soprattutto ma questo ormai credo che sia acquisito anche dai primi studiosi che lo collegavano al dipinto massimi escludo che sia il dipinto massimi anche per una questione di dimensione e poi avremo nei prossimi giorni un altro relatore che farà questo 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 anche io penso che il collegamento con massimi col presunto con la presunta gara sia da escludere assolutamente anche perché è una gara che probabilmente non c'è mai stata quella tra Caravaggio e gli altri e Passignano e Cigoli anche perché non corrispondono le date poi dei vari dipinti per cui sì certo ecco sì le datazioni sono ipoteticamente ma anche io penso al periodo napoletano penso probabilmente o anche più tardi allora visto che sono stato chiamato in causa prima io vorrei riprendere l'intervento il primo intervento di Michela Gianfranceschi che ha posto una questione che per me per i miei studi per il mio approccio alla questione non solo di Caravaggio ma di tanti autori di questi di questo periodo mi sembra estremamente interessante e importante cioè la questione del tema morale che di fatto poi ha mandato molto in confusione non tanto solo su Caravaggio ma insomma tantissimi autori nella prima parte del novecento adesso gli studi si sono ampliati e per fortuna si stanno ricorreggendo alcune cose allora intanto il tema proprio i quattro temi che vengono che Michela ha sottolineato gioco d'azzardo la zingara il vino le donne questo elemento questi quattro elementi questi quattro punti che rispondono a potremmo dire vizi e vizi che si ampliano anche in una visione anche teologica come appunto sottolineato e cioè nel credere piuttosto nella divinazione piuttosto che nella provvidenza e dall'altra parte nel tentare la fortuna con l'azzardo qui ci sarebbe tutto quanto un discorso enorme da fare sul concetto d'azzardo sul rischio sul al-risk come lo chiamano gli arabi e sulle questioni del caso del caso della teologia che sono estremamente interessanti ma queste le rimandiamo in un altro in un altro momento però questo tutto questo è inserito all'interno di un meccanismo compositivo che già in Caravaggio e poi diciamo così nei Caravaggisti dopo costruisce delle scene scene che sembrano tratte dalla realtà cioè sembrano noi oggi abbiamo l'abitudine di usare questa brutta espressione fotografie del quotidiano e in realtà sono allegorie ed è questo un passaggio che mi è piaciuto moltissimo di Michele Gianfranceschi perché a mio modo di vedere si chiarisce questo viene chiarito moltissimo nel capitolo 34 del secondo libro del discorso intorno alle immagini sagre e profane di Paleotti del 1582 perché lì parla proprio sta facendo tutto quanto un discorso lunghissimo il parallelo tra il pittore e l'oratore e quindi ovviamente la pittura riprende i tre principi ovviamente ciceroniani ma poi attraverso il filtro di Sant'Agostino e lì quel delectare docere e flettere sono il compito dell'arte cristiana ma tutto ha fondamento su un principio che è la verosimiglianza quindi è questo il punto cioè noi ci troviamo in un momento in cui ormai è chiaro la separazione tra la pittura la concezione della pittura all'interno della cultura cattolica e fuori dalla cultura cattolica nelle varie diciamo così nelle varie forme di 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 protesta di protestantesimo e quindi la verosimiglianza in questo in questo frangente diventa il come dire lo strumento perché la pittura possa essere all'altezza come nell'oratoria di poter manifestare di convincere per arrivare ovviamente con la gradevolezza insegnare docere e poi vincere cioè flettere piegare convertire e questo l'abbiamo visto proprio nelle dascalie che sottolineava Michela come punto fondamentale come punto d'arrivo allora siccome quello è come dire appunto il derivato quelle incisioni tornando indietro noi capiamo anche i dipinti perché sembra appunto che quelle incisioni ci permettano di cogliere più ampiamente il senso dei dipinti originari non solo quelli dei Caravaggeschi ma anche quelli di Caravaggio quindi il tema morale è un tema fondamentale poi se questo lo prendiamo e lo trasliamo anche in alcune opere d'arte sacra nei giorni passati abbiamo fatto più ampiamente riferimento al gruppo di persone sedute attorno al tavolo nella conversione di Matteo e capiamo sempre di più che ci troviamo di fronte all'utilizzo della verosimiglianza come strumento fondamentale per poter rappresentare la realtà e quindi la realtà deve essere verosimile verosimile deve essere il più appuntitamente verosimile e quindi entrare nei particolari entrare nella dovizia dei particolari ma questo Paleotti sottolinea che è il più proprio dell'arte cristiana non è solamente di questo periodo tornando indietro lo troviamo ovviamente in Ux la propria principia lo troviamo in tutti come dire gli scarti della confezione dello stile nel corso del tempo precedente e successivo quindi questa questione morale mi sembra rilevante anche come come sistema per individuare capire comprendere collocare un po' più ampiamente questo tipo di opere perché altrimenti c'è il rischio di siccome i temi sono sempre abbastanza goliardici sembra piuttosto che siano partecipati cioè che l'artista che li fa sia enfaticamente coinvolto nel guzzoviglio che rappresenta mentre è l'esatto contrario e questo è un po' il senso quindi grazie e poi non so se vuole aggiungere qualcosa sì grazie mi fa piacere che ha toccato proprio questo punto in particolare che io in questo caso ovviamente un po' velocemente accennavo ma questa è una cosa di cui io sono convinta da quando ho iniziato gli studi proprio sulle stampe di genere quindi anch'io a ritroso sono andata diciamo dall'ultimo prodotto la stampa tornando indietro fino a ricercare quelli che forse erano come giustamente ha sottolineato lei dei i significati già profondi insiti nei dipinti è andato molto di moda a un certo punto ricercare questioni biografiche legate agli artisti Valentin che muore perché annega prende freddo girava di notte i bad bugles e tutti diciamo gli elementi della biografia dell'artista un po' dannato che ci è tanto piaciuto leggere in molte situazioni e relative a molti artisti Caravaggio in primis dimenticando invece che c'è tutto un percorso molto più stratificato che porta all'iconografia di un dipinto che per quanto possa essere una rissa da taverna in realtà contiene viene viene generato in un contesto molto particolare il contesto di Roma di quegli anni non è solo appunto il pittore che fa bagordi e gioca lui stesso a carte in realtà ci sono dei documenti interessanti all'archivio di stato di Roma il tribunale di Roma se si scartabella un po' si trovano molte cose interessanti tra cui personaggi fermati che avevano diciamo tra gli oggetti recuperati le carte da gioco vengono descritte delle situazioni di bettole in cui si giocava a carte di notte quindi si è voluto diciamo collegarle strettamente a determinati dipinti determinate composizioni io sono sempre stata dell'idea e questa cosa l'ho scritta in particolare su Valentin del fatto che queste composizioni in realtà non sono affatto dei degli scatti fotografici anzi sono cariche cariche già i dipinti di allegorie che le incisioni non fanno altro che ovviamente in un senso o nell'altro io quelle che ho mostrato oggi le due da Valentin che ho mostrato con le iscrizioni hanno chiaramente un portato di tipo cattolico forte secondo me perché poi dalla lettura io questo non l'ho detto mi sono fatta aiutare da una linguista dell'università della Sorbonne e abbiamo discusso un po' di questi testi francesi di primo seicento e lei mi ha aiutato anche nella definizione di alcune specificità dei termini usati e per questo sono arrivata comunque a pensare e a ritenere che fossero molto ben precise e molto ben legate a una cultura della controriforma romana in particolar modo pronte a viaggiare perché poi appunto le stampe hanno questa capacità di diffondersi a più livelli a più livelli anche sociali e quindi di arrivare in maniera molto efficace sono quasi dei fumetti in certi casi e parlavano al popolo anche soprattutto parlavano in un modo inverso rispetto a quello delle stampine devozionali tratte dalle grandi pale che erano sugli altari di Roma che anche circolavano moltissimo ovviamente non sto dicendo che circolavano solo a livello diciamo di messaggio religioso le stampe di genere però mentre appunto la pala con i santi con l'esempio di virtù era un messaggio diretto il messaggio invece al contrario indiretto come veniva descritto anche da Bergson quel senso di capire le cose al contrario che ci tocca profondamente nel momento in cui ci viene mostrato l'inverso che è educativo che è la stessa cosa poi che dice anche Paleotti in qualche modo queste pitture ridicole che non hanno diciamo dei riferimenti alti ma agganciandosi alla realtà parlano in maniera e un'altra cosa invece che volevo aggiungere se posso è l'elemento che in qualche maniera ha sfiorato anche lei un po' forse lei citava l'oratorio io ho azzardato il definire qualcuna di queste stampe teatrale in realtà tutto il lavoro che c'era dietro all'organizzazione di un sermone che poi nei primi del 600 veniva esplicato per dire nelle forme massime secondo me molto chiarificatrici che sono quelle del collegio romano di come diciamo utilizzavano anche il teatro antico per far arrivare messaggi molto moderni e molto religiosi secondo me è un altro discorso che in maniera differente ovviamente non è legato alle stampe ma rendeva il panorama romano di quel tempo molto ricco e ci mostra diciamo un dietro le quinte un sostrato veramente carico di simbologie allegorie religiose bene ottimo allora c'era una considerazione ulteriore che mi veniva da fare è che da una parte abbiamo una critica che continua a considerare questo giro d'anni e di dipinti con una con una visione bohemienne che nulla ha a che vedere con con quello che accadeva nel tempo dall'altra parte c'è tutta la l'intervento che noi vediamo agire non so per esempio tra i teatini tra gli oratoriani tra i gesuiti dove questo modo di fare anche attraverso il teatro sacro anche attraverso scene rappresentate di carattere morale il prima e il dopo e così via riprendono anche temi cari alla letteratura antica non so il decamerone di Boccaccio non fa altro che presentare temi in negativo per parlare di cose in positivo e quindi diventa attraverso gli exempla fa offre una visione morale quindi da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo non c'è nientato che l'attualizzazione ovviamente poi in questo periodo i temi diventano anche un po' più forti ci sono frizioni con il nord Europa con alcune con alcune questioni che vengono poi combattute a suon di volantini da da tra tra l'inizio del cinquecento e poi poi diciamo qui dall'una e dall'altra parte c'è il volantinaggio aereo che viene viene mandato in continuazione verso il nemico ecco allora grazie grazie ancora ci sono ci sono scusate a me sono arrivati un paio di domande all'attentato a Caravaggio del 1609 potrebbe essere un avvertimento dei Tomassoni per giungere a un risarcimento oppure un segno della vendetta sempre dei Tomassoni beh io penso che mi è un'ipotesi che può essere presa in considerazione ora sicuramente non ci sono prove almeno io non conosco ancora non sono venute prove in questo senso però sono tutte ipotesi valide che sicuramente dovranno essere approfondite non so anche gli altri partecipanti cosa pensano il professor Spiriti aveva chiesto di intervenire no solo un errore di e tu Rodolfo che pensi di questa storia dei Tomassoni ma allora io da un certo punto di vista ho sempre pensato che lo scontro oltre che di carattere personale debba essere inserito in un quadro più ampio di carattere politico io ho sempre fatto nelle lezioni che faccio da anni e nelle cose che scrivo ho sempre fatto un esempio un po' con la Roma o l'Italia degli anni settanta del novecento cioè due grandi fazioni avverse che un tempo erano i rossi e i neri qui a Roma e se le davano di santa ragione in quel momento a Roma ci sono due grandi fazioni in realtà sono di più ma le due principali poi una maggioritaria e una minoritaria sono i filonfrancesi filospagnoli quindi è vero che i tomassoni partengono da famiglia di capo rioni di un rione avverso ma è vero anche che quel rione avverso ha una politica completamente diversa da quella dove vive Caravaggio Caravaggio è in un rione dove c'è del monte dove c'è dei giustiniani che sono filofrancesi e che per un certo periodo di tempo hanno avuto anche ragione perché il pontefice ha appoggiato le politiche filofrancesi a favore del re di Francia del resto del resto che era Ugo Notto e che si è come dire che ha avuto la possibilità di salire sul trono poi piano piano ovviamente il tempo passa le cose mutano i scenari politici internazionali muoiono e cambiano e con la morte del pontefice non a caso si viene a creare questa frizione incolmabile di uno scontro frontale che coincide con tutta una serie di cose anche di appoggi caduta di appoggi politici non indifferenti e quindi di conseguenza tutta una serie di altre questioni annesse quindi è vero sì c'è lo scontro personale è vero c'è una avversione però è vero anche che è tutto in un contesto poi evidentemente è possibile anche che magari questi non volevano che ritornasse a Roma e quindi per risolvere la questione però ovviamente va studiato bisogna trovare qualche altro elemento in più se posso intervenire prego prego ok no sono completamente d'accordo con quello che hai appena detto è tutto è un insieme di fattori che ruota attorno a questa a questa situazione nel Caravaggio fuggiasco le cause le hai ci sono sia aspetti politici quindi personali quello che mi sento di dire secondo me insomma Caravaggio aveva paura non c'è dubbio che aveva paura di essere di essere ucciso in qualsiasi momento che i suoi eventuali uccisori fossero mai avessero un'autorizzazione a tagliargli la testa quindi io ritengo ancora che fosse in vigore questo bando capitale sempre bando capitale si intende appunto la possibilità di 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 ucciderlo e andare a riscuotere la taglia in sostanza quindi diciamo dopo per acquisito questo questo fatto del Caravaggio in una situazione di angoscia per la sua vita che poi fossero stati i Tommassoni gli autori o cioè i sicari dei Tommassoni gli autori per esempio dell'attentato del Ceriglio non lo so ecco diciamo va approfondita appunto la cosa non me ne sono occupato può essere potrebbe anche essere come potrebbero essere stati i Cavalieri di Malta ma anche lì sembra che possano essere stati loro però ci sono degli elementi che per esempio lui era perseguitato però i Cavalieri di Malta alla fine non gli hanno fatto niente cioè avevano la possibilità veramente di fare qualcosa di più e poi questo ce l'ho acchiarito benissimo stamattina Stefania che se avessero voluto l'avrebbero voluto fare in qualunque momento è evidente che non hanno avuto nessuna intenzione di farlo quindi ci sono varie questione certo non era un giallo è un giallo che va che va ancora approfondito questo approfitto solo per rispondere una domanda che ho visto che mi è appena arrivata relativa a cosa ne penso di un suonatore di Gliuto penso che si riferisse chi mi ha fatto la domanda a cosiddetto terzo suonatore di Gliuto cioè quello che noi chiamiamo ex badminton la mia opinione la mia opinione è che è un quadro veramente molto molto interessante non ne ho parlato perché in questi interventi io volevo parlare solo delle attribuzioni più recenti invece questo è un quadro che è anni che si conosce lo ritengo molto interessante non l'ho pubblicato al momento come autentico gli ho messo il punto interrogativo che conservo perché ritengo che vada devo approfondire gli studi sul dipinto che però ripeto è molto soprattutto sulla capigliatura che è vaporosa è un po' vaporosa sì c'è anche a proposito della capigliatura vaporosa c'è anche nelle due versioni del ragazzo con vaso di rose di cui so che parlerà credo Zucca ripenso se non ho visto male dagli argomenti che secondo me Caravaggio sicuramente ha fatto come iconografia poi bisogna capire quale è l'originale tra le due versioni in lizza quello di Atlanta e quello che adesso è in Svizzera di una banca svizzera lì è tutta una questione che chiaramente adesso non è il caso di Tartano credo che abbia ripreso rialzato la mano Andrea questa era giusta invece volevo semplicemente riallacciarmi alle tue considerazioni con una sottolineatura di quella che con una certa arguzia la visceglia chiama la terza fase cioè in altre parole noi abbiamo avuto una storiografia tradizionale di un papato sostanzialmente filo spagnolo dalla metà del cinquecento alla fine della monarchia cattolica poi ci siamo accorti che era una sciocchezza e che interi papati come quello di Clemente Ottavo o la prima metà di Urbano Ottavo sono decisamente più e ci sta ma in più e qui appunto la terza fase va detta una cosa cioè come la nostra tendenza a ritenere in modo indicativa la specifica politica del Pontefice Regnante convive invece con equilibri curiali che sono sempre inevitabilmente dico l'obbio ma è bene riaffermarlo e sono anche compositi non c'è un suicidio di massa del partito della fazione A o B nella lottica in più direi una cosa cioè che sempre più ci si accorge come anche all'interno di papati etichettabili come filo spagnoli penso a Paolo V in modo emblematico in realtà personaggi filo francesi godono e continuano a godere di posizioni curiali di rilievo per cui la a mio avviso veramente caleidoscopica complessità del gran teatro del mondo insomma rende indispensabile il sottolineare come l'adesione più o meno diretta degli artisti e quindi la loro maggiore o minor fortuna di tema sia in questa dimensione sempre molto abitua cioè nel senso giustamente no è chiaro quando poi in casi come questi si interseca con le rivalità di Rioni quindi su un microschema locale che si sovrappone al macroschema dei grandi scontri tra re cattolico e re cristianissimo evidentemente diventa molto più complesso e farei notare un'altra cosa come la assoluzione di Enrico IV abbia posto un problema devastante che a mio avviso ha una lunga durata nella riflessione cioè non tanto ma non solo quello di un ugonotto che si converte al cattolicesimo e che quindi può diventare re cristianissimo ma quello di un relapso assolto e spaziamo di un eretico relapso per il quale in linea teorica non c'è alternativa a rogo se mai strangolato prima se si sente mentre invece bontaloro se invece è un caso clamoroso di violazione delle più rigide norme inquisitoriali è proprio questa vicenda a dimostrazione di quanto il campo sia fluido è ovvio ma mi piaceva così sottolinearlo per dire come veramente la complessità al di là di ogni banalizzazione sia uno schermo interpretativo che comunque regge insomma su queste faccende certo no ma è chiaro semplicemente per sottrarlo ad una dimensione da gossip e inserirlo in questioni più alte perché altrimenti uno dovrebbe da questo punto di vista mettere moltissimi artisti del 400 del 500 del 600 che hanno vissuto storie analoghe che hanno avuto aggressioni aggressioni dei loro assistenti insomma se uno pensa a Leonardo a Guercino Guido Reni insomma è successo di tutto Cavaliere d'Arpino è stato arrestato più volte per porto d'armi abusivo cioè allora uno inquadra bene le cose ma altrimenti sembra che l'unico criminale di tutta la storia dell'arte sia Caravaggio e questo ovviamente nel clima della divulgazione crea ovviamente un punto per cui poi arriviamo agli sceneggiati su Caravaggio che sembra Batman ecco scusate c'è una una segnalazione che della dottoressa Curti che ringrazio che segnala un articolo di Giulia Cocconi uscito nel 2021 su Ballenton Magazine in cui sono stati trovati i documenti che tesammonano che i Tommazzoni da uno dei re dei parenti di Ranuccio da procura da Parma per fare pace con Caravaggio a Roma nel marzo del 1610 quindi questa ipotesi appunto che era stata anche razzata da uno dei di coloro che mi avevano rivolto una domanda è trova una conferma cioè ma scopriremo secondo me tante altre cose cioè pian piano verranno fuori tante altre cose interessanti questo è credo che sia appunto un punto fondamentale ma bisogna avere l'intenzione di cercarle questo è quindi ringraziamo la Gurti per la segnalazione quindi direi che a questo punto visto che abbiamo avuto anche questo pomeriggio un pomeriggio molto intenso molto proficuo molto partecipato e possiamo essere soddisfatti e fra l'altro ecco segnalo che chiunque vuole continuare a porre domande e questioni lo può fare sul sito di caravaggio punto info sia rivolgendosi genericamente sia rivolgendosi ai singoli relatori che poi avranno modo di rispondere tempo permettendo insomma personalmente quindi ecco noi intendiamo sfruttare questo lasso di tempo cioè tra una sessione e l'altra anche ecco il sito rimane attivo quindi ecco vogliamo mantenere viva fino al 28 l'attenzione su caravaggio visto che c'è stato questo riscontro immediato e non dico sorprendente ma certo per noi molto gratificante di pubblico e quindi ci fa piacere che si continui a parlare che si continui a discutere e anche perché è ovvio che così ci sono naturalmente dei punti fermi ma ancora di questioni irrisolte e che rimangono sempre poi al giudizio dei singoli continueranno ad essercene tante quindi grazie a tutti e ci vediamo venerdì grazie a Michela ad Alessandra a Fabio ad Andrea grazie a voi io volevo fare un piccolo ringraziamento a Beatrice Riccardo e Flavia Shortino che stanno dietro 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 le quinte perché stanno prendendo tutti i numeri di matricola degli studenti della Sapienza in modo tale da avere segnati segnate le loro presenze che poi verranno riscontrate con le chat e con le varie cose che i webinar ci offre tutte le registrazioni per poter confermare la loro presenza grazie buona serata grazie buona serata a voi grazie grazie a tutti